Buonasera a tutti, abbiamo qua Amaia e Condorinka direttamente inviati sul luogo direttamente da Visoco. La telecronaca di stasera verrà fatta appunto in tempo reale perché loro ci raccontano quello che stanno facendo, di quello che vorranno fare e poi insomma gli altri punti della scaletta li sapete e comunque sono facili, li scaglioneremo pian piano. Ora vi do subito la parola a voi così portate avanti l'aggiornamento su quello che è il vostro disegno, la vostra idea, non si parla più di tanto di sogni perché qua diciamo che si sta già vedendo, siamo visionari forse, così il visionario già vede, il sognatore è ancora molto all'indietro nella creazione. Quindi diteci, diceci, cosa state vedendo lì? È possibile fare una struttura che accolga quelli come noi? Quelli come noi? Non siamo soli, non siamo soli, tutti i giorni, ciao a tutti, tutti i giorni li incontri, ti sembra di conoscere da tanti e questa settimana nei tunnel solo così abbiamo incrociando due persone a ciao, ciao ci siamo messi a parlare, andare al ristorante, discutere, fare il giorno dopo delle belle attivazioni personale, il giorno dopo poi altre persone ti arrivano addosso e perché sono mandati dall'universo e poi passano tre giorni con te, con noi e no, e dunque sì c'è posto per fare dei belli incontri di non siamo soli, no. c'è assolutamente la zona, il luogo è un luogo pieno di sorprese ovviamente perché energeticamente ha delle frequenze molto chiare, molto differenziate tra le varie piramidi, luoghi, balli, foreste, ci sono anche se proprio parliamo concretamente come mi sembra anche che la domanda sia piuttosto concreta, c'è la possibilità sì di stare perché ci sono tantissime case già in affitto, ma ci sono case vuote in molti posti e una cosa che direi per me è abbastanza importante è che tanti terreni sono comunque privati di persone qua, della Bosnia, quindi noi abbiamo accesso comunque facilmente, possiamo salire, puoi chiedere il permesso, sono estremamente gentili, poi io parlo dalla mia prospettiva e ovviamente non so, ci sono persone che lo vivono come una realtà antagonista, ma probabilmente perché non è la frequenza con cui risuonano al momento, magari non risuonano ancora nella frequenza giusta e quindi hanno delle esperienze dissonanti, chiamiamole. Però per me è tutto molto sereno e sì in effetti basta poco per connettersi, stamattina incontro un ragazzo che mi fa mi ricordo di e io ho un volto magari conosciuto, ma semplicemente mi ha visto passare due anni fa, ok? Io non è che sono stata qui molto due anni fa, però effettivamente questa frequenza, questa risonanza che si crea permette di entrare in contatto facilmente. e soprattutto ho notato che una delle zone, perché c'è la frequenza, quella dei tunnel, perché i tunnel sono importanti. È tutto importante. È tutto importante, però sì, sembra un po' un luogo dove ci si tende a dare appuntamenti senza darsi appuntamenti. Qua è veramente tutto più facile, la vita è molto più facile, tutto è semplice, puoi stare veramente nel secondo, nel minuto e apprezzare la vita e te stesso. Solo una cosa, sei in condivisione, è corretto? Sì. Ah, ok. Vediamo, vediamo le tue, però vediamo i tuoi file, no, te lo dico perché non so se volevi condividere solo l'immagine. Tu cosa vedi? Non vedi l'immagine di stasera? Tutto il tuo file, tutti i tuoi file così. Cioè, non tutti, ma intendo, si vede... È piccolina. Bisogna sempre cliccare prima sull'immagine, prima di fare la condivisione. Così puoi scegliere... Scusa, ma visto che possono essere cose personali, io te lo volevo dire subito. No, non c'è niente di nascosto, io avevo... Se clicchi prima sull'immagine, poi quando vai su Condividiti dovrebbe uscire la scelta dell'immagine in grande, il multimedia player o come si chiamava. Adesso sì, ce l'abbiamo. Volevo appunto mettere questa perché casualmente oggi è l'otto, l'otto, l'otto sette. Vabbè, l'otto ha un bel simbolo più che essere, prima di essere un nome, un numero, un simbolo. E parla di continuità, di eternità. L'eternità è quella anche che si concatena appunto a queste geometrie, a queste geografie, a queste energie che sono presenti per chi sa trovarle, valorizzarle, utilizzarle, canalizzarle, armonizzarle. E tendono queste cose a migliorare la vita dello spirito, che quindi migliora la mente e anche il corpo. Tu occupandoti anche tanto di gente che ha avuto delle lesioni, danni, traumi e quindi col tuo cicatrici e vaci, tu sicuramente potrai portare lì gente che ha avuto danneggiamenti vari, eventuali, e farli migliorare, ci vuole, l'organizzazione che nel tempo metteremo in piedi, o comunque l'idea è questa, di tramite un'organizzazione che possa essere riconosciuta anche dagli enti locali, nello specifico dovrebbe essere una ONG, però potrebbe essere anche qualcosa di locale, se magari Luke, te Luca, volete fare qualcosa lì velocemente, poi eventualmente si va presto a inglobare o a cambiare, però si deve prendere un terreno, proprio terreno e basta, terreno per vent'anni, dateci la concessione di sto terreno, facciamo un accordo così, tanto non è che facciamo strutture sedentarie, mattoni, strade, ponti e fondamenta, ci si va con le tende, ci si va con i camper, con le tiny house, e si organizzano una specie di comunità, dove si può accogliere, dove ci potrà essere gente che ci sta a rotazione tutto l'anno, e si può cominciare a essere concreti, perché a parole tanti dicono facciamo, facciamo, in realtà è un fate fate, noi siamo pochi, siamo tre, stiamo pensando di fare sta roba in futuro, quindi questo è il progetto Visoco, eventualmente poi se ne parlerà in maniera approfondita, man mano che la cosa evolve, adesso la cosa è partita da poco, però diciamo che noi due, sicuramente io e Amaia, ci conosciamo già da quattro anni, tre anni, quant'è? E avevamo già pianificato di fare cose, ora si è aggiunto Luke con tutto il suo armamentario di conoscenze, di presenza, di tutto il suo lato, che è utilissimo anche perché lui rappresenta un po' anche tutti i francofani che possono essere interessati a queste cose, e lui a quanto pare ha questa connessione particolare con quel posto, perché ci ha andato non per caso, e poi ha coinvolto Barbara, oppure tu c'eri già di tuo in quella direzione? Noi ci siamo conosciuti lì, sul tumulus, un posto che a me parlava molto, io sono andata lì, il mio secondo viaggio, praticamente sono entrata subito in connessione, ho iniziato ad avere una sorta di meditazione, download informazioni, mi sono veramente lasciata andare, e lì ho ricevuto diverse informazioni, terminato questo momento, ero lì in piedi, sul tumulus, niente di trascendental, nessune posizioni, per mezz'ora, per una mezz'oretta, mi hanno detto perché io non avevo la percezione temporale, e poi insomma mi ero appena seduta, ho sentito delle voci arrivare, era Luca, poi c'era... Sì c'era 5 o 6, 4, e ci siamo messi a parlare così, non è stato così, istantaneo. Lui era già un abituai di quel posto, ti avrà quindi illustrato le bellezze. Ma no, perché... Piano piano. Perché qua è importante questo, visto che il luogo parla molto, che si cerca sempre di non influenzare la percezione personale, perché poi ognuno è un'antenna, quindi la cosa principale è che ognuno diventi l'antenna, così che poi dopo quando andiamo a condividere qualcosa si evita al massimo l'influenza. Ovviamente qualche volta può capitare, ma tendenzialmente si cerca proprio di lasciare, prima che l'esperienza lavori, faccia il suo lavoro, il luogo, l'energia. La scoperta come... Un giorno penso che venrai, Cristiano, e... Discovery piano piano, polaco polaco, è una delle parole chiave qua in Visocco, vuol dire piano piano. E dunque... È tutto nel flow della vita. È al secondo e... Non si fa programmi, si... Ok, si va qua, si va qua, si fa così... Ah, tac, tac... È tutto fluido, è facile. In armonia. Sì, l'armonia. Una bella cosa. Una bella cosa il silenzio e la delicatezza che avete appunto descritto come approccio, perché il silenzio apre le porte della percezione, mentre la delicatezza fa sì che l'individuo prenda le proprie misure, si adatti alla situazione, anche perché l'energia ambientale ti avvolge, ti accoglie, ti entra dentro, credo che sia balsamica proprio. Anche adesso che vi vediamo lì con quello sfondo di pini, di alberi, di uccelli che cantano, cioè splendido, bellissimo. Poi la natura dell'est Europa è bellissima, la... Sì, e poi subito dietro si vede Bob, il van, il Ford Transit che ho, si può entrare in nove, e dunque, eh, vedi, è con noi, perché anche lui, come tutti gli oggetti, tutti gli alberi, tutte le pietre, è tutto vita, e io con Bob è veramente un osmoso, va sulle piramide, fuori strada, tranquillo, e si fa una bella unione, come fai una bella unione con tutto quello che c'è intorno a te, perché era la base di tutto, e non entriamo nel soggetto di dopo, ma alla base è tutta armonia con te, la natura, per ritrovare queste vecchie, e apprezzare tutte queste tecnologie che non si conosce più, e che sono naturali, che sono sparite, ma sono qua, è tutto possibile, unlimited, l'energia Tesla, è tutto lì in modo sleeping, o utilizzato da, da dell'altra gente, ma che noi non si può utilizzare, ma è tutto accessibile, è tutto da creare, perché siamo creatore, è tutto illimitato, la sola limitazione sei te stesso che te la dai, e non c'è limiti, e dunque breaks the illusion, non c'è limiti, non c'è limiti, ma non c'è limiti, ma non c'è limiti, non c'è limiti, quando è che hai scoperto questo posto e ci sei andato? Dieci anni fa, cinque anni fa, quando è che ci sei andato? Hai avuto una chiamata? Sì, sì, avevo visto un video in 2012 su YouTube, creato per Semir, e in 2019, inizio settembre, il mio boss mi dice, oh, ma devi prendere ferie, ho detto, ok, e il sabato, ok, e la domenica mattina mi sveglio, faccio, ah, ma c'era Visocco che ho visto il video sette anni fa, e lunedì vado a vedere il boss, gli dico, oh, posso prendere 15 giorni, mi fa, ok, e sono partito la domenica dopo, e dunque era in settembre 2019, sono venuto a aiutare i 15 giorni volontari, scoprire Visocco da me stesso, e la domenica sera ho incontrato i volontari, ho spiegato questa storia, Marie Sofie, la coordinatrice francese dei volontari per la fondazione, mi dice, ma sei stato chiamato dalle piramidi? di rifaccio, ah, ok, sì, non ero sveglio, e come si dice, tre giorni dopo ho iniziato a sentire le energie, e poi vi dico tutto, ho avuto un bel elettroshock, perché non abbiamo più maschere, e due settimane dopo, il venerdì, vado a dire ciao a un americano che aveva quasi 70 anni, che ha lavorato 15 giorni nei tunnel, e lui vado per fare un abbraccio, un friog, e lì vedo i suoi occhi che fanno, scop, dura cinque millesimo di secondi, prendo la mia poker feste, faccio un friog, ok? La sera si mangia con i volontari, lui non c'era, sono accanto a Marie Sofie, gli dico, Marie Sofie, sai che quando sono andato a dirgli ciao, ho visto i suoi occhi fare così, gli dico, ma è un reptiliano, e lei mi fa, sì sì lo so, ma non ti preoccupare Luca, hai avuto questa sensibilità, e non c'è problema, e lì sono ripartito, di vislocco dopo 15 giorni nei tunnel, a levare la sabbia che hanno messo su tutta la galleria, e mi sono detto lì, wow, i reptiliani esistono, esistono, tutto esiste, e dunque lì ho avuto il mio, e è iniziato la mia storia così con visocco, e la mia connessione con me stesso, e poi non c'è il limite, così sapete tutto, i reptiliani, tutte le razze esistono per davvero, non è una leggenda. No, no, io ho avuto proprio degli assistiti che chi consapevolmente, chi meno, avevano una natura che non era come la mia, che a mia volta non è magari come la vostra, o di altri, che la gente non sa chi è, cioè dire che non si sa chi si è, da dove si viene, è realtà purtroppo, e queste cose vanno significate, perché non si può vivere non sapendo niente di noi, e del posto dove stiamo facendo cose, perché sennò non ha nulla senso. Questi individui che ogni tanto si vedono in giro, si incontrano, ora, non è mica che ti ha fatto del male, non ti ha mica fatto paura, semplicemente sei arrivato ad avere coscienza diretta di qualcosa di cui avevi solo sentito una leggenda urbana. Nonostante tutto, sta gente può essere vicino di casa, può essere il tuo partner, e non lo sai, c'è gente che è sposata con qualcuno che non è della loro specie, sono tanti simili, ma tutti differenti. Gli umanoidi, io infatti parlo di umani e di umanoidi nei miei circoli, perché umanoidi lo sono tutti per forza quelli che vogliono avere un'evoluzione, una partita, un'esperienza in questo posto, con una forma evoluta di creatori, e allora devono essere per forza umanoidi. Quindi all'apparenza sono tutti simili, hanno le dita, la testa, le due gambe, stanno in piedi e da vestiti sembrano tutti uguali, ma tu dimmi se è un pigmeo e uno svedese sono uguali, e un cinese e un africano piuttosto che uno della Sicilia e uno della Papua Nuova Guinea sono uguali. Cioè i modelli di veicolo con cui si gioca sulla terra sono tanti, ci siamo abituati e crediamo che ma sì, siamo tutti umani. Il cavolo è come dire, i gatti sono tutti uguali, perché sono gatti, e no, e ognuno c'è peculiarità, utilità, è importantissimo conoscere gli interessi delle creature con cui ti devi interagire, perché nel momento che tu conosci gli interessi capisci se possono essere amici, se sono neutri o se sono competitori, pericolosi, magari loro vogliono farti del male, perché magari noi no, però non si può vivere pace e amore e siano tutti uno, perché quelli là non sono mica buoni, anche perché magari semplicemente soffrono non capendo chi sono, dove sono e perché, e quindi credono che devono sopravvivere, non vediamo che i pazzi ad alti livelli, che credete che siano umani quelli che al telegiornale dicono di crisi, guerre e di cose orrende, e che tirano a quei loro mulini perché hanno paura di morire, hanno paura di perdere quello che hanno messo insieme con millenni di cose che si inventano come strumenti per tenere la gente distratta, per farli nascere, replicare nell'ignoranza e spremergli l'energia vitale. Infatti, come nel punto della locandina dicevo, il terzo punto, quella fiamma che se sei vivo non si spegne mai è quell'ardore nel vivere, quella luce negli occhi che ti fa andare oltre le pause della vita, dove magari sei nella routine e dici, vabbè, sto lavorando, sono dieci anni che lavoro, sono sposato, ho la mia vita, credo di aver capito quello che mi serve, magari sono anche genitore, però lo senti che dentro c'è di più, dentro di te c'è sta fiamma che ti ricorda che c'è di più, e te dici, quando capirò se mi capita, e a te è capitato perché, insomma, non è che hai più vent'anni e cavolo, ti sei agganciato a una vita alternativa, attiva, perché ora tu stai lì sei mesi all'anno, vuol dire che proprio te lo vivi e puoi anche farlo, perché non è che tutti possono stare sei mesi in vacanza a fare cose lì. Raccontaci come fai a essere così connesso e se nella tua infanzia c'erano già delle preludi a questa vita sicuramente diversa da uno della tua età che magari è nato nel tuo paese, nella tua via e ora è là che fa il bar, il ristorante, il bar, il lavoro e casa, mentre tu sei lì che giri il mondo. Sì, ma tutti di noi, noi, il portai organico, il gate organico, ma quando ci si aveva meno di otto anni, ci si aveva questa immaginazione e per me e per tanti si pensa che siamo di più, siamo più potenti di questo e questo corpo è troppo piccolo e ricevi bene la tua connessione e poi a un momento entra in moto il sistema, l'educazione e fai la vita di babbo, di sposarti, di avere un lavoro, di avere una macchina, di partire in vacanze e poi a qualsiasi età ti puoi svegliare e prendere il controllo della tua vita perché hai capito che non sei questo, che questo è solo un veicolo e un'antenna e che la tua conscienza è fuori e se ce la fai a riconnetterti e ascoltarti perché ti ami, perché hai fiducia in te, ma in te e in tutto quello che sei che metti in posto nella tua vita per essere in armonia, dunque di essere una bella antenna, è tutto possibile. e lo dico tante volte, it's easy, but it's not easy, but it's easy. E dunque a te di mettere nel tuo, creare il tuo paradiso per la tua armonia e da lì è no limit, ognuno fa quello che vuole fare. Hai detto che ci si deve amare. Cosa vuol dire amare? Vuol dire alimentarsi? Eh sì, di amare, la sua passione era di creare, di fare vivere cicatrici e baci e dunque devi fare la pace con le tue cicatrici del passato perché ognuno, e delle volte c'è, se caschi veramente in una famiglia con tanti problemi e da lì devi fare la pace con questo, ma a Maya, devi fare la pace. A me è veramente una cosa, ma non so se è il momento, perché sentito, riguardo proprio a questa cosa, anche sull'amarsi, ma anche prima sulle scelte, no? E' che io la vedo un po' come una storia, cioè tutti hanno la propria storia e scrivono la propria storia. E, o meglio, all'inizio per tanti è difficile capire che puoi scrivere la propria storia, quindi già quello è un passo, è un passo. Ma, proprio per una questione energetica, per portarla fuori da ogni teoria, a livello energetico, se ognuno alimenta la propria storia, alimenta un sistema che tiene in piedi la storia. Finché noi alimentiamo una storia condivisa, fondamentalmente, non abbiamo mai abbastanza energia per noi stessi. Va a finire che il nostro centro non siamo noi, ma è tutto quello che c'è attorno, e noi dipendiamo anche noi, alla fine, da quello che c'è attorno. Ma se noi cominciamo, di fatto, a trattenere questa energia, tenere questa energia per noi, e usarla per scrivere la nostra storia, in realtà poi non è che togliamo per forza energia agli altri, sì, togliamo energia probabilmente a quello che cominciamo a capire che non funziona, tipo questi meccanismi del sistema, tipo questa triade, vittima, carnefice, come era l'altro, adesso non mi ricordo neanche come è, sostanzialmente c'è la vittima, il carnefice, il salvatore, ecco, per esempio, no? Oppure, cioè inizia a ritirarti dal partecipare a certe cose, perché capisci che poi quello è una dispersione di energia, troppo ego, entri nel tuo ego, inizia a diventare una lotta di ego, allora dispersione di energia, allora ricominci togliendo, e togliendo, beh, insomma, a livello di amore, cioè l'amore, vabbè, per me fondamentalmente è l'energia che gestisce un po' tutto per come la vedo, quindi... Hai detto una cosa... In generale... E il pezzo grosso è l'ego, perché si pensa e ci si identifica al tuo ego, e perché, ah, ma questo sono io, e fin quando non ce la fai a riprendere il controllo di questo, l'ego controlla e connessa all'egregor dell'ego, al sistema, e si pensi che perdi il tuo ego, ah, ma non esisto più, e dunque bisogna fare il posto spaccando piano piano tutti i programmi che abbiamo per ricevere le tue nuove informazioni, e l'ego è un pezzo grosso, ma fa parte di tutto un processo che te lo fai naturalmente, ascoltandoti, avendo fiducia in te stesso, e a questo momento se ti metti a ascoltarti te stesso, ti metti in equilibrio, perché ognuno siamo differenti, e dunque sei solo a poter sapere cosa è bene, o cosa non è bene nella tua vita, per essere in armonia, e di mettere in moto le cose per te. Mai ha detto una bella cosa. E essere in grado di, ah, scusa. No, dicevo che hai detto una bella cosa prima, quando hai parlato dell'essere non solo parte di un collettivo, perché il libro della tua vita, la storia della tua vita, deve essere la tua, poi che tu hai anche la famiglia, hai anche il posto che ti contiene se ne sei con partecipe, allora dici, vabbè, siamo la regione, il paese, la nazione, siamo questi, ma ricordati di non essere anche, soprattutto, prima di tutti, tu, perché tu, così facendo, quando con la creatività, con la progettazione futura, con le risorse che hai a disposizione, o che pianifichi avrai, tu puoi anche costruire cose che nutrano le tue di creazioni. Se tu, invece, passivamente guardi a chi mette in piedi i progetti per te e ti dice che sei un ingranaggio di tutto quel macchinario, ma che devi solo essere passivo, abbiamo la fede, l'appartenenza, l'interesse materiale, ed ecco che sei nel mero materialismo di sistema cosiddetto. Sei cittadino, sei cliente, sei compratore, consumatore, sei fedele, sei strumentalizzato. Quelle cose sono oggetti, non vanno demonizzati, sono cose che devono offrire un servizio, se li sai usare, li usi, ma se credi che c'è solo loro, che esistono solo loro, tu legittimi quel vivere in base alla materia e a questi che ne mettono a disposizione, e quindi l'ego prevale, l'ego va bene, è come il colesterolo, quando l'ego è equilibrato va bene, quando è disequilibrato c'è solo l'ego che diventa egocentrismo, e allora la gente ha paura e diventa superba ed è partecipe di tutte quelle brutture che sono i potentati più grossi perché così si sentono parte di qualcosa che vogliono tutti stare nella squadra più forte. no, e si dimenticano di vivere, e non vanno da nessuna parte, anche perché gli manca il nutrimento, in più sono ignoranti e in più sono legati da mille contratti, senso di colpa, di dovere, non li possono muoversi, tanta gente vorrebbe a parole andare a vivere all'estero piuttosto che andare via dalla città e andare nella natura, andare a fare, cambiare lavoro, cambiare vita, e non lo fa perché è parte sconfitta in partenza. Una parte di loro dice voglio la vita bella, so che c'è di più, mi meriterei di più, ma dall'altra è difficile, non ho tempo, tanto non me lo fanno fare, tanto chi lo fa in realtà alla fine non lo fa. Beh, diciamo che tu sei l'esempio che si può, a modo mio anch'io sono andato via da dove ebbi Natali, e sai, se nasciamo in un posto e rimaniamo solo lì, cosa siamo alberi, va bene, è bello l'albero, ma noi dobbiamo fare gli umani perché siamo fatti per fare altre cose, muoverci con le gambette e andare in giro, collaborare con altri come noi e alimentare prima dei collettivismi, se vogliamo farne parte, io già da esempio non faccio parte di nessun collettivo, se non piccoli gruppi come il nostro trio, piuttosto che altre piccole cose dove c'ho direttamente l'individor interessato, non c'ho gli intermediari, perché se io dico a due individui di dire a voi che ci vediamo domani alle 4 in quel posto, non è detto che ci si trova, quindi altro che internet, burocrazia e passaparola, diretto, la vita è facile, voglio vivere, sto male qui, posso andare là, lo faccio, lo pianifico, lo faccio, non prego, non aspetto, perché altrimenti passa la vita e mi ritrovo che non ho fatto niente, e poi siamo delusi da noi stessi, quindi hai detto una bella cosa. Il fatto che vi chiamate a Maya e quando dica non è chiaro per tutti, quindi visto che anche adesso c'è scritto Barbara Tosti, ok, quello è l'appellativo sistemico, benissimo, ci si organizza, si sa, si usa una finzione giuridica, vabbè, è una cosa che la usiamo, è come un vestito, ma il condorinca per Luca e il tuo a Maya, visto che fate lavori spirituali, perché non c'è solo la materia, anzi, quello che vediamo, i corpi materici, la 3D, sono meno che un terzo della nostra reale manifestazione, anche in questa vita, voi avete fatto esercizi spirituali, viaggi, meditazioni, cose varie, e avete scoperto che il suono che vi contraddistingue, prima di essere Luca e Barbara, avete avuto questa reminescenza, che nel momento che uno si guarda dentro, parla con se stesso, una volta due, cento, ci arrivi che fai la domanda, ma qual è il suono mio, prima di quello terreno, terrestre, di questa esperienza, barra gioco qua, e a voi vi è arrivato questo, nel tuo caso, Ammaia, e nel tuo caso, con Dorinca, volete spiegare come funziona questo meccanismo di parlare con qualcosa che non è del mondo terrestre, ma che dice cose effettivamente reali e utilizzabili? da dove arrivano queste informazioni? Vai. Allora, io, premessa, una cosa, che è proprio una coscienza, che si è proprio rafforzata in questi giorni, è che, mi sono resa conto, di, di aver sempre, creduto, cioè, sono una persona che, tendenzialmente, è sempre rimasta aperta alle storie, al possibile, perché, ho sempre adorato, viaggiare, con l'immaginazione, con i racconti, eccetera, e, ma, in questo, in questo senso, io, posso ascoltare storie, apparentemente, logicamente, che non stanno in piedi, una con l'altra, perché, una, magari il contrario, l'ho detto male, per intendere, logicamente, o mi dici, banalmente, o la terra è piatta, o la terra è rotonda, non può essere entrambi, ma, ho sempre avuto un po' questa attitudine, ma io, intanto, non ho bisogno di prendere posizione, tutto è possibile, e quindi, in qualche modo, ho sempre lasciato, un po' queste finestre aperte, tanto, non sentivo una pressione, di presa di posizione, tant'è che, mi rendo conto, che, non faccio fatica, a, creare storie, a, creare possibilità, vedere, che, ognuno, arriva, attraverso una storia, molto interessante, ai vari punti, a incontrarmi, insomma, alle sue realizzazioni, quello che ho capito, è che, improvvisamente, a un certo punto, una di queste cose, che tu credi, la sai, fai delle esperienze, ovviamente, non puoi stare lì, far nulla, ma, vivendo, accadono delle cose, vai incontro a delle esperienze, e, improvvisamente, passi dal, ok, non posso, non devo più credere, questo lo so, e, è difficile da descrivere, ma, si può vivere, chiaramente, chi l'ha vissuto, potrà dire, ah, sì, sì, so di cosa stai parlando, e magari, ancora un po' più astratto, per qualcun altro, ma, intanto, è nell'aria, e qualcuno, magari, a un certo punto, ah, adesso capisco, queste parole, come, prima, Cristiano, hai detto qualcosa, che io, inizialmente, ah, ecco, sì, che si ricollega il nome, tu dicevi, perché uno deve sapere chi è, Io, dico, eh, chi sono? Chi sono? Cioè, non, non avevo quel, mi mancava quel punto d'origine, ma, non lo trovavo con la testa, l'ho trovato solo, per esempio, venendo qua a fare l'esperienza, poi ho capito, ah, ma guarda, mi era stato suggerito lì, mi è stato suggerito la, ho rimesso un po' i puntini, di questa storia del nome, ma finché non sono arrivata qua, non è successo questo, non ci siamo parlati, non siamo andati là, in quel posto, cioè, c'è qualcosa in questa, un'illusione, che stiamo vivendo, che però è anche molto concreta, che necessita proprio, è anche un movimento, non vado nei dettagli, perché poi il movimento, può essere un'illusione, ok, ma, in qualche modo, non so spiegarmelo, a livello teorico, ma in qualche modo, funziona, se, resti fermo, resti in quell'ambiente, resti in quella situazione, non cresce, questa dinamica, mentre, inizia una vita, inizia il viaggio dell'eroe, cioè, entri proprio, a essere protagonista, voilà, ecco, uso questa metafora, perché secondo me, cioè, a me risuona molto, la metafora, delle storie, perché in fondo, ce ne raccontiamo sempre, quindi, beh, ma dici poco, noi passiamo molto tempo della nostra vita a credere o a immaginare, anzi, facciamo pensare, noi crediamo e pensiamo, credere già è un pochino, lo usi come concetto, il pensare, invece, sei coinvolto, è molto tempo della nostra vita, finché non ci svegliamo, e che non acquisiamo consapevolezza, quindi presenza, e noi pensiamo e crediamo, perché siamo nella dinamica delle cose, tu studiamo, cresciamo, prendiamo la patente, e poi andiamo nella vita, troviamo lavoro, c'è un fidanzato, la fidanzata, le cazzate, compro qui, c'è un figlio, sia nella ruota del criceto, sia nel relativismo, sia nel materialismo, e sia ovviamente nelle mani di chi ti ha messo lì, benissimo, ma in quel mondo? Posso fare un appunto, però nel credere, di cui parlavo io, perché magari mi sono dimenticata, io parlo anche di tutte le storie raccontate, quindi dal cappuccetto rosso, Babbo Natale, la Befana, gli unicorni, il sistema, era tutto un credere, per spiegare, ok, giusto, scusa, hanno esaltato il concetto, cioè hanno fatto diventare una virtù, lo sperare, il credere, e l'aspettare, se quelle sono virtù, in natura muori, se aspetti e non fai niente, se credi, parliamo di vita pratica, se fossimo nella natura, gli animali non hanno il tempo Kronos, gli animali vivono in un Kairos, in un Aion, vivono di connessioni, sono nel flusso, e sono sempre dinamici, se stai fermo, ti mangiano le formiche, ti prende un predatore, ti atrofizzi, non ti alleni, ci si deve fermare per dormire, per riposarsi, ma poi ci vuole dinamismo, la vita di un individuo, che per 20 anni fa casa, lavoro, supermercato, chiesa e suoceri, a rotazione, si ritrova che è malato, che è atrofizzato, perché non ha più un fisico, una mente elastica, e fa una brutta vita, in più appunto vive di credenze, e di pensare di essere, di fare, in realtà è ingabbiato, e nel momento che gli si può venire ad aprire una finestra, perché vede qualcosa, sogna qualcosa, o un evento traumatico può essere un coma, un evento paranormale, uno shock, o nega l'accaduto, o piglia psicofarmaci a vita, o diventa un fanatico, si bypassano, in passaggio di prendere consapevolezza, che cosa invece che noi abbiamo fatto, a nostre spese, perché quando abbiamo iniziato a farlo, io nel 2009, tu magari, poi tu hai un figlio, due, non mi ricordo, non è che sono proprio cose facili, alla sovranità, al cambiare alimentazione, adesso andare a vivere, magari l'idea di fare cose, in Bosnia e Herzegovina, che non è neanche riconosciuta dall'Europa, penso la Bosnia e Herzegovina, cioè nessuno non sa neanche dov'è, è una regione, della Bosnia, l'Herzegovina, ma la gente cosa dice di questo? Ti dice che sei fuori di testa, perché non hai futuro, e alla tua età dove vai, solo che se sei giovane sei scemi, se sei vecchi sei scemi, se sei a metà strada, c'è sempre qualcosa di meglio da fare, ossia fare, nella ruota del cricetto, quello che fanno tutti, ma se, quello che fanno tutti, dà quei risultati, perché si vede, io sono ben contento di non farlo dal 2009, e di frequentare gente come voi, che ha avuto la connessione, e che ha visto oltre la maia. Discovery, avventura, discovery, no, se non hai, cioè, io lo direi, quello che può essere collegato allo spirito, è un po' quella forma di, come dicevi tu all'inizio, fuoco interiore, ormai quello, non è che non ce l'abbiamo, perché tutti ce l'hanno, ma alcuni ce l'hanno un po' delle piccole bracci, quasi un po' spente, invece ogni tanto bisogna, soffiare sul fuoco, sul proprio fuoco, e fare quel passo, perché tanto, cos'hai da perdere, no? Alla fine, alla fine, ti lasci guidare da te stesso, quando hai messo questo motel, che ti ascolti, tu non devi capire nulla, devi solo lasciarti guidare da te, e only to be. A livello archetipico, il fuoco è lo spirito, l'elemento dello spirito è il fuoco, e come alimenti lo spirito, con cose belle, con cose che hanno a che fare con te, perché lo spirito è alla missione, cioè al destino, sa perché è qua, è la mente che non lo sa, e infatti il problema è far parlare il proprio spirito, che risiede in questa zona, con questa zona, perché è quella che poi fa muovere il corpo fisico, e quindi fa fare le cose nella materia. Ci vuole che lo spirito comanda, come diceva Gurdjieff, chi guida la carrozza, la mente, la carrozza e il corpo, ma il padrone della carrozza che si sta facendo trasportare è lo spirito. Ora, se lo spirito ha bisogno di essere alimentato, con quelle cose che sono utili alla reale vita, al reale motivo per cui si è incarnati qua a sto giro, e noi non possiamo metterci il calcio, metterci le prossime lezioni, l'aumento, la carriera o l'andare in pensione. Quelle non sono cose che alimentano lo spirito, quelle alimentano la pancia, alimentano la mente, alimentano questo indottrinamento martellante di propaganda. Quindi praticamente è come se alla gente che ha freddo d'inverno tu gli dai delle fotografie di caminetti e di stufe accese. Questo è il mondo, per questo la gente muore male e vive poco nel relativismo materiale, perché non hanno un combustibile che gli alimenti la fiamma. Ma cosa fa la fiamma al fuoco quando è alimentato? Fa luce, fa calore, manda lontano gli animali pericolosi. Di notte, se tu sei nel bosco, il fuoco tiene lontano i parassiti. Se hai una fiamma piccola, non vedi niente, perché non c'hai la possibilità di vedere, no? Quando invece tu la fiamma la hai mani, tu vedi meglio. Occhio che non... Sì, certo, di giorno è meglio, però tanto nel buio, dei momenti bui della vita, se hai lo spirito forte, tu vedi ben distante. Se nei momenti bui della vita tu hai una fiammella che è una braccia, hai bisogno, se ti va di culo, di essere illuminato da qualcuno. Ma se qualcuno ti illumina, tu hai la luce riflessa, devi sperare che quello continua a illuminarti e in più dovrà pagarlo, dovrai sperare che ti illumini dove ti serve a te, perché magari ti illumina di là, ma tu staresti meglio se vai di là. Bisogna essere noi emanatori di luce, non essere illuminati. Chi è illuminato, infatti i potenti che dicono di essere gli illuminati, si definiscono da soli. Io sono un emanante, io sono un illuminante, non sono un illuminato. E infatti appunto, nel secondo punto che dirò in chiusura della serata, toccherò l'argomento appunto del proseguo della stagione che si va ad aprire a settembre dell'anno sincretico, che chi chiude e dell'ateneo sincretico che si apre, che parla appunto che st'illuminazione dobbiamo produrla noi da dentro verso fuori, dallo spirito interno verso il fuore. Ogni individuo, individualmente, è una fiamma, che deve essere una bella torcia, e che si mantiene sano, vitale, vede, naviga a vista, e mantiene lontano i parassiti. a livello architipico, l'individuo proprio è atavico, abbiamo sempre avuto l'impressione che sottoterra, nel sottosuolo fisico, proprio nella terra, madre terra, c'è chi dice che c'è il fuoco, il nucleo di fuoco, siamo nella terra palla, tu prima hai detto la terra o è piana o è un blocco, non può essere tutte e due, dipende dai punti di vista. No, per me sì, per me sì, per me può essere anche di tre forme, quattro, cinque diverse, per me è quello, il credere in positivo è proprio quello di lasciare aperta ogni possibilità, perché al momento giusto ti arriveranno le formazioni, ti arriverà la coscienza di sapere quando è necessario, per il resto io non ho bisogno di sapere di che forma ha la terra in questo momento, ma lascio aperte tutte le possibilità finché nella condizione giusta troverai quello che ti serve, perché la stessa acqua è sempre H2O, ma a volte vapore, a volte liquida, a volte ghiaccio, dipende da quella situazione in cui ti trovi e ti dirò che appunto la terra non è né globo né piana né piatta, no, piana, sì direi, perché comunque la curvatura non si trova, però la dimensione è triangolare, cubica, non ci serve saperlo, perché come all'animale che vive in un bosco non gli serve sapere che di qua è Italia, di là è Francia, è il confine, che nella mappa geografica una realtà strata creata dagli umani per comodità, l'animale non c'è nella realtà una striscia di dieci chilometri che è rossa o arancione, no, l'animale vive, viaggia, fa, non ha l'orologio, non ha la farmacia, si gode il momento, vive poco, vive tanto, il giorno che muore non se ne accorge neanche, arriva il predatore, fine. Noi sapendo un po' più di cose, sentendo più cose, non possiamo vivere come vivono gli aminali perché abbiamo più voglia di fare e ci annoieremo di avere solo da pensare tutto il giorno a mangiare, a giocare, a dormire, ci rompiamo le palle, siamo fatti per fare più cose e allora ci complessizziamo la vita, la vita non è complicata, la vita è complessa e allora abbiamo tante cose da fare con tanta gente diversa in varie fasi delle nostre età, appunto noi due ci conosciamo da quasi quattro se non cinque anni, abbiamo fatto ipnosi, abbiamo fatto viaggi astrali, abbiamo fatto una marea di cose e già mi ricordo che questo Amaya veniva fuori, veniva fuori con i tuoi ricordi ancestrali dove veniva fuori mondi sommersi, sirene, per lo più draghi e questa cosa del drago nell'iconografia di ogni religione, di ogni mondo, si parlava dei draghi, dei draghi, ma i draghi esistono, ti dicono che i draghi non sono mai esistiti, che è solo una cosa mitologica, ma il drago però gli pterodatili sì eh, cioè i draghi no, ma gli pterodatili però sono esistiti, quelli, i quali lunghi, no, vabbè, era una battuta, ma sai, alla fine ognuno porta energia alla propria realtà e di fatto secondo me questa è una delle cose fondamentali da capire perché se noi siamo qua appunto col titolo del mondo che verrà ma il mondo che verrà non è un destino da seguire in fondo lo stiamo creando assieme prendendo le nostre decisioni mettendo insieme la nostra capacità di creazione e se uno se noi risuoniamo in fondo stiamo creando una realtà in cui poi tutto dal mondo invisibile diventa concreto in nostra immagine in qualche modo no e tanti stanno lavorando a un'altra immagine tanti stanno lavorando a un mondo che verrà distrutto tanti stanno lavorando a un mondo dove si soffrirà un casino e ognuno sta costruendo la propria storia ma non è che siamo obbligati ad entrare in una storia che non ci risuona se poi siamo esseri comunicativi comunichiamo a noi piace l'idea di mettere insieme le nostre energie perché le nostre storie assieme diventano una bella storia facciamo un'epopea che ci piace a noi in fondo e questo secondo me è risonanza ecco creazione che wow a me sembra un il messaggio è quello che dà e quello che si dà e ognuno è il suo boss non c'è più boss e le cose è solo te che le puoi mettere in moto e accendere questa fiamma e la tua connessione e creare la tua realtà e per me il mondo di domani voglio voglio rivenire a creare il paradiso dove so perché è una cosa che abbiamo avuto Paul Dazio non ce la facciamo più avere ma io ci credo che il tuo paradiso lo puoi avere dove sei e con la gente con chi vuoi ma ognuno c'è la sua responsabilità di ascoltarsi perché si può dire le cose il tuo percorso ma poi sei solo a mettere in moto e a riprendere il controllo di questo corpo e ascoltarti la tua guidanza che è te ma il paradiso sulla terra si può ricreare si può rivenire non voglio queste altre matrice che matrice che stanno creando io voglio creare questo paradiso intorno a noi mangiare bene ridere perché non siamo venuti qua per soffrire e di avere una bella famiglia di no questo paradiso lo possiamo creare basta solo volerlo ma se solo a poterlo fare ognuno è non può aspettare lui che ti aiuta lo devi fare te come dice la locandina noi il mondo che verrà sì possiamo dire che è già qua basta non volerlo basta saperlo se tu lo sai che è già qua e semplicemente delocandoti magari vivi a Berlino non ti piace la tua vita e te ne vai a Visoco ecco che il mondo semplicemente è fuori posto ma il mondo c'è già siamo le scelte che facciamo io se sono qui ora ho dovuto dire balle ho dovuto forzare le cose ho dovuto impormi perché il genitore l'amico la fidanzata non volevano cioè ma sei matto ma molli tutto ma cosa dici ma si sta bene ma dove vai io sono sempre andato sono sempre andato e ho sempre avuto ragione perché mi sono sempre trovato meglio del posto dove ero prima e ma ci vuole coraggio ma ci vuole non solo buttarsi ciecamente bisogna essere connessi perché io me lo sento non è che lo spero lo so come fai a saperlo non lo so ma lo so e allora dico lo sento poi ci diventa un'abitudine vivere così e allora io dico che vivo connesso e a quel punto sono nel flusso come dicevi te ma se nella vita in generale te lo dirà anche il chimico lo scienziato quantistico il tempo quella cosa chiamata tempo conferisce il tempo conferisce direzione al moto se siamo vivi se siamo dinamici se ci muoviamo come andare in bicicletta noi rimaniamo in equilibrio facciamo progressi vediamo posti nuovi siamo in allenamento perché poco una pedalata ogni tot ma continui ad andare e con poco consumo perché la bici con due ruote consuma pochissimo ti mantieni in allenamento respiri vedi mondi nuovi e vai se stai fermo statico ok non consumi ma sei atrofizzato nel lungo periodo in più ti costruiscono intorno ce ne rendiamo conto che più si è statici più ti costruiscono intorno tante comodità che in realtà sono delle gabbie e poi ti dicono che uscire è pericoloso fuori c'è c'è il mostro il babau c'è la guerra tutto costa stai dove sei ti chiudi nelle gabbie dorate e la gabbia ti protegge da quello che c'è fuori ma ti fa anche impedire di uscire a vivere gli uccelli in gabbia credono che quelli liberi si espongono ai rischi meglio meglio vivere e poi morire piuttosto che stare tanto tempo no? come si dice meglio 100 giorni ma tanto la morte non esiste per me la morte è solo la fine di questo corpo ma poi rinizia qualcosa di nuovo nonostante non dobbiamo sprecare questa opportunità perché ogni volta che ti rinasci per 15 anni tu sei soggetto ai genitori all'ambiente devi capire come sei nel momento che dai 16 poi più o meno prendi la vita per le mani io mi ricordo quando a 17 anni ho cominciato a lavorare sono andato via di casa ho fatto cosa ho molato la scuola ero nelle mie mani ma ci ho avuto da aspettare 17 anni e in quei 17 anni di solito ti fanno talmente tanto lavaggio nel cervello che tu ti infili a scuola ti infili a lavorare ti infili in quello che ti ha detto il programma sistemico televisione famiglia del mulino bianco e via io invece non l'ho mai fatto e ho fatto la vita vera sprecare la vita pericolosamente no perché io se dovessi morire oggi che palle la prossima volta che voglio venire comunque devo aspettare 15 anni prima di poter di nuovo toccare con mano ora io sono in una fase di vita dove quello che voglio fare lo posso fare direttamente sono ben contento e quindi modulo con chi fare cosa fare perché ho tempo ma la vita è fatta di tempo io dedico tempo a voi perché abbiamo dei progetti e non posso dedicarlo ad altri 100 come voi si sceglie ma è il destino che ti manda le cose nel momento giusto e allora io leggo anche i segnali e quindi siamo qui a parlare di queste cose Visoco non è arrivato a caso io lo conoscevo già mi piaceva so che lì c'è del magico c'è del salutista c'è del tante cose belle poi che ci siano interessi Osman Agic sembra bravo in realtà magari lavora per i massoni non lo sapremo mai chi se ne frega tanto lì se noi facciamo le nostre cose quelli potranno costruirsi una chiesa e dire che loro hanno trovato il loro Dio contenti loro ma tanto ci vorranno 30 anni ma neanche ma pensiamo per noi eventualmente ci andiamo da un'altra parte noi creiamo il nostro il nostro non vuole gli altri non vuole fare commercio non vuole rubare la luce agli altri perché di solito quando tu commercialmente crei qualcosa ti attaccano perché hanno paura che gli rubi i clienti noi non vogliamo mettere in piedi una nuova religione né tantomeno danneggiare quegli altri non diciamo che sono tutti satanisti chi se ne frega io non lo sono capisco chi lo è perché posso immaginare perché decide di diventare satanista se esiste Satana perché anche lì è dualismo esiste Satana perché ti dicono che esiste Yahweh ma io non so chi dei due è peggio nella Bibbia Satana ha ucciso due individui o tre Satana nella Bibbia mentre Yahweh ne ha uccisi 40.000 Satana a fare così quindi non so chi dei due sia più cattivo quindi pensiamo per noi e alimentando quella fiamma ossia lo spirito che viene dal basso perché la fiamma va dal su dal basso verso l'alto e andiamo avanti nelle nostre cose e ricordatevi che l'elemento fuoco è l'unico che fa l'ascensione dal basso verso l'alto il fuoco, il calore va dal basso verso l'alto l'acqua, la terra è ferma l'acqua addirittura va giù e l'aria è l'aria ma il fuoco va verso l'alto quindi lo spirito deve essere innalzato più c'è calore più lo spirito va su più c'è alimentazione più c'è fiamma la gente smorta che io prego il rosario dieci volte al giorno e fanno delle vite miserabili ma loro lo stai facendo male perché il rosario prima di essere quella cosa commerciale che ti hanno venduto è un esercizio spirituale che lo fanno dai tempi dalla Valle dell'Indo sono 150 milioni di anni che si usa l'esicasmo ma non sanno neanche che cos'è l'esicasmo e i grani sarebbero pineali i grani sono le pineali che vedete in tutte le stato che ci sono ste pigne ste pigne da tutte le parti sciva calì con questa roba intorno queste pigne perché le pigne sono pigne sono pineali sono l'antenna con cui noi prendiamo il segnale chi ce l'ha chi ce l'ha calcificata perché mangia male e vive in un ambiente sporco c'ha una pineale atrofizzata non prende più il segnale e bisogna stop il fluor no fluor è una base ma delle volte bisogna ritire qualche basette ma il fluor è proibito noi lo sappiamo sì sì ma delle volte anche avere un po' il coraggio di staccarsi da questi programmi automatici che ci vengono nella mente penso che a volte sì sono cose concrete ma a volte viene anche calcificato da quello che sono le abitudini mentali questa rete non so le vedo un po' come delle ragnatele che piano piano alla fine strato su strato diventa una cosa spessa perché ogni pensiero ogni giorno tutte le volte che viene ripetuto anche quello aiuterà a calcificare ma alla fine essendo tutto molto cioè ricordandoci che è un'illusione forse aiuta a capire che ci sono anche queste miracoli chiamiamoli chiamiamoli miracoli perché non so un'altra parola non mi viene queste cose istantanee no? i culmini vengono raggiunti e quando arriva il culmine succede la cosa grossa cioè la pianta fa 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 poi boom fa il fiore un giorno la coscienza può generare questa energia così forte che a un certo punto magari ti basta un minuto per decaccificarti la pineale per dire ma è vero che è come lo vedo un po' come l'orologio gli orologi di una volta no? per misurare questo tempo cioè questa realtà concreta quella che vediamo il quadrante dell'orologio che fa tac 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 mettiamo che è la realtà concreta però dietro c'è tutto quello invisibile che sono non so tutti quegli ingranaggi che ognuno deve fare il suo movimento tac 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 e poi quando la cosa nell'invisibile è riuscita a fare tutti i suoi incastri poi fuori tac nella realtà si materializza quel cambiamento insomma quello che deve materializzarsi è un po' questo gioco tra invisibile e visibile poi siamo individuali ma l'unione è la forza dunque più che siamo a vivere la tua vita con te stesso e con la gente che vuoi e più che fa ognuno crea la sua realtà ma più che ci si avvicina e si crea la stessa realtà perché le linee di tempo sono vicine e ora non si sa cosa va a succedere ma c'è tante possibilità e per questo bisogna vivere tutte le mattine una nuova vita fare quello che si vuole fare per essere bene e ok per tante persone non è facile ma può essere facile basta solo cambiare realtà se i bambini hanno 14 anni o 8 è tutto possibile basta solo avere fiducia in se stesso è tutto possibile seriamente ma per questo sei solo a mettere un moto sapere che si può fa tanto la gente non sa che può non lo sanno per questo sto qua perché sono sempre stato qua e sto qua bisogna uscire la visione bisogna uscire dalla sua zona di comfort e a questo momento si apre delle nuove porte perché hai preso posizione e ah ok lo faccio perché lo vuoi e lì si aprono delle nuove porte perché hai finito qualcosa e inizia qualcosa di nuovo il progetto è il progetto visoco io lo lo inquadro come creare un'NG quindi un'organizzazione mondiale mondialmente riconosciuta riconoscibile operante in vari modi e in vari posti dove con la riconoscitura anche sistemica perché per il quieto vivere per un'amministrazione per una tracciabilità tanto non abbiamo mica niente da nascondere possiamo crearla e acquisire un terreno in quella zona di mondo lì dove siete voi perché è bella costa poco c'è burocrazia bassa è comoda a tutto il centro Europa soprattutto all'Italia e si può creare un terreno con delle strutture creeremo una rete di aperte donazioni raccolta fondi la gente che va lì avrà cure naturali approfondimento di materie olistiche pratica di scienze di confine indipendenza perché nessuno viene lì e si infila in una setta si infila in un culto si infila in qualcosa perché anche l'ecovillaggio oramai è diventata una cosa sì però me lo creo sto solo con i miei quattro amici e con i quattro amici è limitante non puoi neanche andare in quelli degli altri dove siamo tutti nel volemose bene perché vi mettono a lavorare quattro ore al giorno poi anche lì ci sono i capi i capetti i ruffiani e anche lì non ti piace ci deve essere una realtà dove l'individuo ha il suo posto ha la sua libertà è individuale il suo automantenimento se vuole fa vita sociale se no fa l'individuale ma è parte del progetto il progetto Visoco è l'autoconsapevolizzazione individuale portata a livello che l'individuo può essere il massimo per il soggetto in questione noi possiamo offrire questa alternativa a quelli che dicono vorrei ma non c'è niente noi te la diamo la possibilità se lo sai che c'è e costa poco e in più lì c'è il verde c'è il fiume c'è il lago c'è il mare vicino se fosse ma è vicino però c'è una città grande come Sarajevo che ha vita notturna è bellissima Sarajevo il suo stato e c'è l'aeroporto internazionale scuse non ce n'è si può fare c'è il posto lo vogliamo fare si fa è solo questione di tempo c'è l'acqua che è buona tante sorse differenti perché l'acqua è molto importante e poi c'è la magia perché quando ma non si può ma seriamente quando la real la science fiction è qua e la realtà quando ti ascolti vivi la tua vita e e e quassù fa e sono delle belle storie ma bisogna avere il coraggio di farlo ma poi sei contentissimo intanto qua si può dare una cosa se permetti è solo l'accoglienza perché comunque una volta che hai fatto un passo hai la possibilità di accogliere chi sta facendo il passo mentre si continua l'avventura perché c'è accoglienza c'è ascolto c'è avventura questa è una cosa che sicuramente si può offrire perché siamo tutti con la voglia di creare di andare oltre sì con gioia no? ma anche sapendo che come ci sei già passato riconosci bene il momento in cui puoi accogliere qualcuno e poi nella senza diventare un come una necessità no? accogli perché anche l'altro resti individuo indipendente indipendente unico rispetto i valori che prende le proprie responsabilità perché alla fine è quello che tutti dobbiamo fare in fondo rispettare capire comprendere comprendere più che rispettare comprendere perché ovvio che rispetto ma io ti comprendo io capisco perché quello è stato io ho delle io ho delle amicizie o comunque degli assistiti che sono islamici sono satanisti sono che credono agli ignomi credono a Gesù bambino credono niente io parlo con tutti e non ho mai litigato con nessuno lo stesso per chi mangia diverso da me io non ho problemi con nessuno perché capisco perché capisco perché lo fanno loro loro magari non capiscono perché io vivo come vivo però non sono belligerante non ho primo sono armonico e allora posso esistere nello stesso mondo in cui esistono anche loro ovviamente non sotto lo stesso tetto perché sotto lo stesso tetto io uscirei di testa penso con chiunque se non fosse un altro clone di me stesso ma questo perché arrivi più più lavori su di te più diventi talmente che noti i particolari i dettagli che ti dà fastidio chi invece vive a dei livelli più bassi allora io dico io sto da solo sto bene nel mio ho fatto l'eremitismo a cinque anni adesso penso di fare qualcosa di volevo fare delle comunità adesso me ne basta fare una perché basterebbe già una fatta bene non serve farne tante male facciamone una fatta bene e infatti il progetto Visoco questo dice mettere a disposizione una struttura che possa accogliere e mettere l'individuo in condizione di autogestirsi tu vieni lì lì c'è la regola dell'armonia va bene il silenzio va bene parlare di spiritualità fare pratica nessuno deve fare proseliti portando lì eh ma gli alieni buoni eh ma Gesù ci salverà se a te sei parte di quello tienitelo per te va bene ma sii neutro quando parli deve essere sempre mai monodirezionale perché se ti dici esiste un unico dio dici una puttanata l'unico dio di sto posto è la natura il colore verde il colore verde e il colore azzurro sono colori sono frequenze che sono state misurate col cervello anche uno che dorme con le clenzuola verdi e la stanza con i muri blu dorme da dio tu ci metti il viola il giallo l'arancione anche se te dice buio sta dormendo non influirà influisce non a caso il cielo il mare sono blu e la natura è verde perché noi ci sentiamo a casa quando sentiamo quel tipo di suono di colore ci si sente a casa qua e prima che vada via ma quando hai parlato di clone per me c'è tanti luca che abitano so qua in questa dimensione questa frequenza ma c'è tanti altri luca connessi in tanti altri livelli e facendo qualcosa con quest'antenna qua do un impulso a tutti gli altri luca che vivono su altri piani e dunque wow è qualcosa di grosso anche se non si può è talmente grosso che si fa abstrazione ma si agisce in questa realtà perché si crea ma si agisce anche su tutte le realtà che vivono connessi tutti gli altri luca e tutte le altre cristiana bivi ora fra fiamma è qualcosa di grosso non è solo qua siamo multidimensionali se in una vita parallela un tuo te oggi diventa che un serial killer si metta a ammazzare gente tu avrai delle conseguenze nefaste sulla tua vita di qua dove sei bravo e buono perché l'altro tuo sta cazzate e arrivano le informazioni cioè come se lanci un sasso in un lago arriva le onde quindi noi dobbiamo essere retti qui ma anche sapere che siamo anche in altri posti anche negli altri posti quando si fanno quei sogni vividi sono sogni sono viaggi in altri posti siamo sempre noi e bisogna saperlo bisogna prenderne coscienza e bisogna vivere con rettitudine perché le leggi naturali ci dicono quanto possiamo tirare la corda ovviamente quando qualcuno raggiunge un'integrità dove è sereno qui è sereno nella vita parallela lo fa allora poi i culmini alimenti 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 il culmine fa sì che si va al livello superiore cioè fai ogni dieci tacche livello superiore le ottave superiori di cui si parlano in esoterismo e così facendo arrivano i miracoli le autoguarigioni arrivano le illuminazioni perché capisci tutto ti ricordi di averlo sempre saputo eppure fino a due giorni fa hai fatto 50 anni di vita dove dove sono poi ti arriva l'informazione come un pezzo di puzzle e tutto ha senso e allora poi c'è dei poteri perché tu a quel punto lo sai che sei e non puoi più far finta di niente siamo evoluati non siamo siamo super potenti quando ti ascolti passa attraverso di te e l'informazione arriva quando devono arrivare e siamo veramente esseri evoluti perché no è qualcosa di grosso ma e poi quando assaggia questo vuoi solo vuoi solo essere te per e agisse è forte ma è difficile mettere parole su queste sensazioni perché arrivano di altre dimensioni altri livelli di te stesso e con la voce non abbiamo le parole Bisocco è una zona sismica? sì quando c'è delle come da Bisocco partano tante linee energetiche dunque quando succede qualcosa a 200 400 chilometri in Croesia e qua ricevi qualche movimento però è proprio una zona io ho già ricevuto ma come quando ero sulla costa azzura ricevevo qualche dipende dove abiti ma si abiti su punti energetici di energia e sono collegati e dunque si arriva un terremoto però non c'è stato un terremoto danneggiato grosso da fare danni penso di no io ho ricevuto qualche scosse ma niente di grave tutto tu no penso che non sia ma non è non è una zona ma ricevi qualche vibrazione se succede a Mostar o più lontano o in Croesia qualche vibrazione arrivano quindi comunque la terra è viva si muove sono pulsazioni sono sproni e più che un terremoto di per sé appunto quando le linee energetiche queste ley lines questi flussi di magma sotterraneo perché c'è da considerare tanto il tellurismo che è una materia che forse qualche geologo che fa un po' di approfondimenti li conosce ma il tellurismo è fondamentale perché determina poi il potenziale locale perpetuo che si va a modulare con la volta celesta che invece produce un'energia cosmica e quindi l'ambiente telluricamente parlando è fondamentale lì il terreno è così idoneo che ci hanno voluto fare quelle strutture megalitiche e voglio dire se conoscenze superiori preumane hanno deciso di fare lì quello che hanno fatto vulcani non ce n'è terremoti non ce n'è grossi stragi cose brutte lì non se ne son fatte sì qualcosina nella guerra ok però non è che c'è stato ne catombe quindi è un posto buono energetico pulito sano c'è via vai di dischi volanti se ne sente parlare globi luminosi sì ce n'è sì bene allora vedete che ce n'è altri che vanno lì ad abbeverarsi a quell'energia sì sì le puoi prendere in foto le puoi avere in video esiste possono avere anche colori gialli fosforescenti che abbiamo qualche video possibile ma tanto fanno parte di 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 questo di questo kingdom questo regno regno esiste tutto e facendo un'altra piccola parentesi ma senza i terremoti tanti sono artificiali creati da quelli che ci amano tanti eh lo so e dunque e non penso ma lì si stanno caricando bene in energia molto forte di tutta la paura della gente tutto ma per darsi stanno preparando delle cose per ma non si sa non bisogna alimentare bisogna stare nella sua realtà ma ci amano tanti ci amano tanti c'è da dire anche che lì c'è l'adriatico vicino l'adriatico non è un mare a caso c'è quando negli anni 40-50 c'era il caso amicizia non so se lo conosci si trattava di questa interazione tra umani e abitatori di altri posti che avevano delle basi delle astronavi delle basi sotterranee anche nell'adriatico ma grosse come la città di Milano e che un po' vanno e vengono un po' si muovono un po' buttano fuori qualcosa e allora scrolla un po' il terreno scrolla un po' l'acqua gli umani i militari mi ricordo ancora di 15 anni fa quando ero in Sea Shepherd che eravamo contro il fatto che questi militari e questi governi buttavano bombe sismiche nell'adriatico anche nella Sardegna da tutte le parti con la scusa di non so cosa fare georadar rilevamenti cose roba militaresca in realtà buttavano queste strumentazioni ed impulsi per fare danno a qualcosa o a qualcuno perché insomma quelli che vediamo in televisione chi guarda la tv io no però quelli che si vedono in televisione non sono né umani né buoni né cattivi sono dei pupazzi che portano avanti delle agende che portano avanti degli interessi che fanno i gestori dei recinti di bestiame sono solamente di certo che vanno evitati non li si può fare la guerra hanno i cazzi loro a doversi difendere da chiunque compresi eventualmente qualcuno che è meglio di loro che vorrebbe venire qui qualcuno dice vorrebbe liberare le mandrie per me liberarle fino a un certo punto perché sai se uno è un animale da bestiame che il pastore sia tizio o caio sempre tu animale da bestiame magari ti dà il mangiare migliore ti tratta meglio ti ammazza meno ma il problema è che l'individuo deve smettere di essere creatura d'allevamento ma il punto è che i potentati umani che si fanno vedere quando parlano di armi di difesa di scudo spaziale è perché hanno paura che altre organizzazioni provenienti non da territori terrestri quindi da fuori il mondo umano vengano a rubargli le cose che loro si sono così difficoltosamente mantenute e quando come l'hanno scoperto due anni fa tre anni fa devono trattare tutto il bestiame vaccinare il bestiame cambiare Dio al bestiame adesso vanno tutti verso l'ecumenismo dopo duemila anni di qualunque puttanata adesso dobbiamo è tutta una religione unica è il soldo unico è tutto tecnologico è la moneta virtuale e più la gente fa così e più quelli come noi vanno a vivere in campagna quindi sotto terra ci sono tante cose sotto terra c'è il cuore di madre terra quella è una cosa tangibile sotto terra si dicono che ci dormano i draghi nella mitologia questi draghi questo animale che lo vedi in Asia c'è tantissimo in Oriente ne parlano come una creatura saggia intelligente che protegge che aiuta qualcuno diceva ma sai dicevano che erano i draghi in realtà erano i dischi volanti in occidente se ne parla male il drago e il satana e il militare l'arcangelo l'eroe di turno uccide sempre il drago tu come la vedi questa cosa dei draghi per me dentro di noi c'è un po' di drago di dragonitudine voi cosa ne pensate siamo un po' di draghi dentro mi sento drago penso che era la mia prima vita ero drago è la mia essenza di base per me ma poi non mi cambia nulla nella mia vita di tutti i giorni ma sono connesso al mio drago che dentro di me che passa nella mia elevazione il drago e l'equilibrio ma poi non si può capire basta solo che l'energia passa e ti dà e con te con questa antenna puoi interagire intorno a te ma anche lì sono cose che sono non ho lo dico sono un drago della mia essenza e lascio passare il messaggio perché Luca tanto non capisce niente e sono solo un'antenna e quando deve passare passa questa energia ma per me i draghi esistono e sono qua sono incarnati in questi vestiti umanoidi ma come tu hai visto il tizio che aveva l'occhio rettiloide quello magari è un'altra specie umanoide quello è un rettiliano che mica ti fa del male era lì in vacanza sì sì tra l'altro io come come sempre dico lascio aperta la le le possibilità ma chiamo spesso queste queste cioè diciamo dico ognuno di questa di queste storie di queste esperienze ha sicuramente un'impronta energetica io ho incontrato conosciuto te anche se non ci siamo mai visti però in qualche modo ti riconosco quindi se io faccio una meditazione o se vedo qualcosa o capisco se mi se mi giunge una tua chiamiamola impronta energetica una sua o quello o tutto quello con cui sono entrata in relazione perché in fondo posso conoscere quello con cui sono entrata in relazione e in qualche modo qualcosa dentro categorizza ciò ma ma non è proprio il classico computer della mente perché questa impronta energetica non la riesci neanche a descrivere io ho dato questo nome ma non è che con la testa poi io posso iniziare a farti una descrizione però lo so e allo stesso modo riconosco in me una posizione di un'impronta energetica e così che un po' è arrivato anche a me questa essenza del drago cioè quando quando ci siamo incontrati è stato giusto nominato ah sì questa è la casa dei draghi non è che abbiamo discusso forse è venuto fuori un paio di volte eppure quella parola che è uscita un paio di volte ha iniziato la sua storia a crescere sì perché c'è una casa di draghi dove abbiamo accesso è una casa è una casa non è che non c'è nessun drago siamo siamo tanti draghi e ognuno è messo qualche parte perché deve vivere qua per fare la sua vita e far controbalanzo nell'invisibile ma sì la casa dei draghi esiste qua a Visocco e come altre case ieri sera sulla piramide dell'amore per fare un fuoco e saremo sei e passare un bel momento fino alle dieci dieci e mezzo e l'energia era simpatica e anche sulla piramide laggiù c'è no dappertutto ci sono draghi differente essenze e si vive in questi giorni ogni giorno è cresciuta una certa sensibilità in questi giorni ogni giorno non smette mai sì perché chiaramente ogni ogni giornata è un'esperienza e quindi tutto va a stratificarsi e quindi anche per me è piuttosto è sempre più chiaro riconoscere questa impronta energetica anche quando è più lieve ma io me la sono riconosciuta poi riconosco anche altre cose però è vero che a un certo punto poi è quello che adesso conosco non è che sto inventando cioè mi esprimo mi permetto di esprimerlo però senza a chi risuona risuona a chi non risuona non risuona ma anche io l'ho sentito il drago e ho sentito questa forma originaria ecco questo quando dici capire chi sei e tornando all'origine trovo questa essenza io per ora arrivo lì arrivo lì sento questa essenza e lasciando agire questa questo fuoco intero sì è anche un fuoco capisco che entro in una risonanza che mi fa stare bene più espansa più c'è c'è proprio un riscontro nella realtà diverso quindi per me è concreto poi non è che ci si fissa sull'immagine fantasiosa il trovare una ragione no è un è una sorta di come lo dico impronta energetica per me così che continuo a conoscere sempre di più e le informazioni arrivano sono come dei piccoli pezzi di puzzle che sto ancora completando ma sono anche cosciente che stando qua con altre persone chiamate in fondo da questa risonanza spesso ti trovi proprio a completare dei pezzi perché quando tu vivi assieme un'esperienza invisibile ma poi in fondo una grande avventura ti rendi conto che è un'avventura condivisa allora dici ok ora poteva essere una storia solo nella mia testa ma sembra sempre più reale ma per non influenzare sto cercando di dire tutto senza dare troppi dettagli sei già arrivata il 26 di giugno fra 4-5 giorni ritorno in Svizzera e poi torno qua sì ma devi aspettare inizio agosto per tornare qua e potrai rifare sì vedere io sto qua normalmente sto qua perché tanto tutti i giorni come siamo liberi come l'aria e vai dove ti dici di andare e dunque è così sei aperto a tutto e al migliore per te dove devi andare dove devi stare ma fra poco rivai via ma giustamente è interessante anche anche questo movimento intanto io sto costruendo perché non è che tutto avviene magari da un momento all'altro però sono serena perché sento che sono sulla direzione giusta cioè l'importante è prendersi tutta la libertà che ci si può prendere e così si espande in tutte le azioni ma sicuramente sarà diverso tornare sarà anzi per me c'è già una capisco che torno ma me ne sto andando cioè io sapevo già che era terminato qualcosa lì solo che chiaramente nella concretizzazione delle cose si creano dei legami e a volte ci sono dei legami che boom puoi veramente tagliare in un attimo altre cose hanno bisogno di quel percorso un po' di più però tutto sommato mi sento tranquilla cioè forte sì sei più equilibrata allineata con te e in armonia sì so che sto investendo nel me e che non sto più dando questa energia a un sistema a cui mi ha dato tanta perché di fatto mi mancava anche delle coscienze che comunque l'esperienza ti fa sai la fine quando hai poca energia ma in fondo mi sembra di averne sempre generato tanta per cui sono stata anche abbastanza testarda no cioè ah ma io riesco a fare le cose anche qua e ho preso ci ho messo un po' a dire ok me ne vado perché ho sempre pensato perché me ne devo andare posso fare tutto anche in questo ambiente che è stata una bella lezione ma è finita cioè ho visto probabilmente tutto quello che dovevo vedere e quindi adesso potresti dire che la tua vita è stata tutelata da un'energia invisibile che ti ha impedito di farla finire prematuramente in generale io riconosco che in qualche modo ho avuto una protezione tra l'altro proprio anche se penso alle mie mani in qualche modo cioè ha mantenuto tra l'altro questo è come una runa di protezione come dire mi hanno anche mantenuta sempre un po' tra virgolette diversa poi vabbè mi sono scelta l'ambito artistico per cui già sono rimasta sempre un po' in quel luogo liminale e quindi interamente nel sistema non sono mai entrata per quello non non vivo tanto ecco non condivido così tanto quella sensazione tipo ah vivevo una vita così e poi improvvisamente mi sono ho cambiato tutto no per me in realtà non è così ho sempre avuto uno spazio di libertà ma pensavo di dover riuscire entrare e cambiare e cercare di insomma cambiare le cose anche attorno a me e ho lavorato tanto in solitudine diciamo mentre adesso è proprio cambiato qualcosa come se ok come se avessi chiuso delle cose cioè come se avessi avuto delle task da fare c'è la sensazione di aver messo la spunta su un elenco di cose che dovevo fare e e che adesso non ok adesso è tutto carta bianca adesso da lì da qua sono più tranquilla le spunte le ho fatte e adesso voilà l'energia me la posso gestire di più io chiaro ho fatto delle scelte è importante forse non ricordarsi sempre che tutte le esperienze sono qualcosa che ci porta avanti non ah se è successo quello allora ecco quando si va troppo nell'ego si rallenta tutto cioè è successo varie volte quindi so che quando entri in queste dinamiche di pensiero dell'ego rallenti tutti i processi perché ah ma allora è così ah se è successo una volta sarà sempre così eh sì insomma sappiamo un po' queste queste dinamiche o le cicatrici appunto tante volte si portano avanti queste cicatrici si continua a farsene sanguinare da soli quindi questo anche dispersione di energia quindi è chiaro che un po' di lavoretti ci sono da fare non è che come diciamo arriviamo qua poi ci sono tutti questi anni in cui veniamo ben informati dal dall'ambiente in cui arriviamo poi magari ci abbiamo qualcos'altro non lo so dal campo invisibile ma siamo tutti insieme per discutere quando si deve discutere provare a fare il meglio per eh fare la pace col passato perché non esiste più e di essere su una buona base della tua vita perché hai preso il controllo di questo corpo e lì si apre tutto e tra l'altro il passato cioè adesso non è che si parla sempre del passato chissà quando perché il passato può essere qualcosa che è successo cinque minuti fa che ci si dimentica che le cose continuano a succedere quindi resti in una forma di a parte che tendi a reagire meno ma sai sai cosa fare quindi lo metti in campo subito non è che adesso bisogna se succede qualcosa non è che resti in disequilibrio tanto magari sono secondi minuti ma prima succedeva qualcosa se penso alla mia vita o pensi all'adolescenza eccetera le cose duravano giorni settimane mesi anni qualche volta e per fortuna io sono una persona che non ama portarsi dietro le cose troppo a lungo quindi normalmente qualche azione la facevo però più veloce meglio si sta diciamoci la verità si resta nella propria armonia io casomai se c'è una questione da Fiam o Ora o Abibi o alcuni o te Cristiano siamo disposti adesso diamo appunto la parola al pubblico se vuoi fare delle domande poi si capisce perché nella locandina avevo messo appunto l'immagine del drago che protegge la bimba che gioca perché è la metafora la vita sulla terra in questo bel giardino verde come nell'immagine della locandina e c'è questa bimba che gioca perché gli umani nella 3D sono come bimbi che giocano sono così con questi comportamenti molto infantili li vedi gli adulti avvocati generali guerre politici praticamente litigano per il pezzo per il giocattolo vogliono quello che ha l'altro e poi quando ce l'hanno lo lasciano andare perché sono sono infantili potentati superiori tutelano in base anche alla qualità del del bambino di turno da proteggere proteggono le vite di quelli che stanno qua e credo che ci può essere un drago custode come elemento magico perché qualcuno parla di fenice qualcuno parla di pegaso qualcuno parla di unicorni o di chissà che animali mitologici però è il drago tutte le leggende i miti l'iconografia è il drago l'elemento più preponderante come animale sacro mistico connessione di conoscenza o comunque il serpente poi serpente che vola che non vola è sempre un drago c'è il drago d'acqua il drago dell'aria il drago del fuoco abbiamo gli elementi sta comunque sottoterra io come si chiama mundis sutterraneus mundis sutterraneus di come si chiamava oddio ora mi viene Tommaso da Campis ma non è Tommaso da Campis parla sempre di queste cose che fino al medioevo c'hai draghi li vedevi uscendo di casa capitava poteva andare bene poteva andare male erano pericolosi erano bravi ti aiutavano erano magici in tutti i film fantasy te la menano e poi invece ti dicono che non esistono che non c'è mai stato un cazzo però in compenso ci sono i dinosauri che se li sono inventati l'altro ieri ma non che i dinosauri non esistano esiste tutto esiste tutto ma se tu vai da uno che non è mai uscito dal suo atollo in polinese gli dici che esiste la giraffa quello ti dice vabbè se ci credi tu io me la racconti ma se uno non la vede la giraffa noi magari l'abbiamo vista in tv anch'io sì l'ho vista in Africa ma non è che magari lui che non ha mai visto una giraffa sa che esiste ma non perché crede alla tv o al libro degli animali perché sa benissimo da spirito sicuramente superiore alla media che quello che non ho ancora visto non è detto che non esista ecco lo scientismo di quest'attuale antropocene umano l'epoca dell'uomo dell'uomo dell'umano dell'essere umano perché l'uomo è un'altra cosa dice che quello che loro non riconoscono non esiste se la scienza non lo dice se la religione la politica non lo accettano non esiste il drago il drago non è l'animale che vedi e basta come un animale che puoi vedere un leone o un efante è una forma energetica che prima probabilmente come il popolo sottile gli elfi le fate gli unicorni poteva magari esistere anche nel mondo umano quando c'era un'altra densità frequenziale adesso che siamo esasperati pesanti non noi tre noi cinque ma in generale l'umanità nella sua media soprattutto più ti avvicini alle babilonie più l'etere è talmente saturo che è pesante è basso e nel basso ci sono tanti virus tanti microbi tanti parassiti tante cose brutte ma se ci allontaniamo dalle babilonie troviamo posti dove io l'ho fatto il viaggio in Irlanda in bicicletta dormire da solo in tenda ho fatto cose così ho fatto il giro del Regno Unito ci ho messo tre settimane quant'era in Irlanda ho visto una forma di fumo nebbia draghiforme e mi ha seguito per due tre giorni e poi quando mi accampavo mi girava intorno era proprio ho fatto i video ho fatto delle foto ho fotografato le fate tutte queste cose io le ho vissute le fate e con chi anche se parlo con gente che le hanno fatte le hanno vissute queste esperienze posso parlarne di più adesso parlarne qua con voi l'ho già fatto ma con gente che magari è qua però non è questo il punto il fatto è che queste creature non esistono ma in bande di frequenza più sottili che possono essere percepite solo da quelli che possono vederle possono sentirle e io quella nuvola intelligente che non si muoveva in conformità col vento che c'era e che mi seguiva mi studiava aveva veramente un che di drago l'Irlanda quindi per me è il posto più magico che ho incontrato e sono stato anche in Africa e Nostro Europa ma l'Irlanda è veramente magica molto potente e sicuramente io col mio odore di pelle che non mangio cadaveri col mio spirito equilibrato tranquillo placido non ho pregiudizi non ho paura ma comunque se serve la forza si sente anche se uno è in pace e quindi come un animale che io dormivo nel suo territorio perché passava in bici dormivo in tenda mi studiava ma non mi ha né attaccato né niente e queste cose esistono nel mondo ci sono anche per quelli che non lo sentono che ci sono queste energie intorno poi se tu vivi a Babilonia avrai intorno delle energie che non vedi con gli occhi non puoi toccare con le mani ma che non sono positive e che però agiscono su di te e quindi a Babilonia non ci vivo e neanche vicino e se vado nei posti o creo l'ambiente neutro per dire qua ci sono io come ho fatto dove vivo da otto anni oppure essendo che sono di passaggio perché nella vita noi siamo sempre viaggiatori io mi amo definire un viaggiatore sono uno che attraversa i mondi va e ora sono qua otto anni mi diverto ma non è che morirò qui andrò e mi comporto bene perché so di attraversare territori di altri mi comporto bene per il quieto vivere anche se passo attraverso sono a Babilonia perché non è che se vado a Londra se vado a Edimburgo fate tutti schifo siete satanisti massoni lasciali perdere mica mi rompono le palle a me anche quest'idea che i cattivi ti vogliono entrare nella vita sei tu che cerchi lavoro sei tu che vai a farti registrare sei tu che vuoi i loro servizi e allora devi firmare tanti contratti firme 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 se no loro non ti corrono dietro infatti io sono uscito da quel mondo nel 2010 è bene che sto e quelli che dicono che sono cattivi e tutto dico che non hanno ancora capito che il cattivo è un dualista che esiste solo se tu lo permetti di esistere gli permetti di esistere va bene teniamoci le energie superiori buone intorno ecco come l'avrete sicuramente voi anche in questo momento che parliamo di queste cose che emaniamo un'energia buona o il pendolino bovi si potrebbe misurare secondo me voi li attraete perché emanate positività non dico amore la positività attraete sicuramente il buono dico l'ambiente sicuramente lì fuori qualche gnomo fata qualche drago c'è c'è non siete solo per me in questo momento comunque proprio di andare a lavorare sulla frequenza dell'amore è molto importante perché è vero che c'è una contrattura enorme è come se veramente venisse relegato sempre a non so canzoni stonate a una minima frequenza mentre è qualcosa di enorme quindi sì in questo momento per me è un focus importante cioè proprio perché non è mi sembra inesplorato al momento cioè non dicono che non lo sia tanti ci lavorano però in effetti viene sempre molto questo messaggio di stereotipate male e quindi quello va praticato proprio perché è la ci sono tantissime sfumature inutilizzate se vogliamo è come se appunto hai la scatola di colori e stai usando due pastelli ma se ce n'hai 24 magari è il caso di cominciare a usare anche gli altri e quindi in questo senso io direi di sì anche anche quello perché la gente vive in bianco e nero dualista mentre ce n'hai altri usali usali crea combina ma no non lo so è pericoloso c'è sempre questa forma di laura del foglio bianco e che per quello che secondo me le arti sono una bella cioè io ho avuto un bel training con l'arte perché alla fine sei sempre lì allora oggi nuovo foglio bianco allora oggi è un nuovo quaderno vuoto insomma scrivi disegna è un bel esercizio è un bel esercizio andare in questo spazio e secondo me questa è una delle cose che che fa parte quella è una di quelle cose che che teniamo perché è un esercizio di creazione a me quello che mi piace nei draghi è che il drago è il simbolo dell'equilibrio appare e arriva quando arriva un desequilibrio e il drago a questo momento arriva e rimette l'equilibrio facendo quello che deve fare con la sua prestenza la sua magia e siamo in una base ora è un bel desequilibrio e dunque sono contento che siamo qua per rimettere l'equilibrio perché sono combattimenti forse che non si possa capire tutto quello che passa in questa zona terra e il drago è un bel simbolo e poi il l'equilibrio è nella nostra vita di tutti i giorni quando metti non ho bisogno di te non hai bisogno di me è equilibrio in tutte le relazioni amicali col boss e con la fidanzata il fidanzato la famiglia l'equilibrio non ho bisogno di te non hai bisogno di me statuco se inizia a avere bisogno di me desequilibrio e dunque inizia a mettere a prendere predominanze a volerti fare delle cose che non vuoi fare quello che io dico è lo stare insieme per piacere quindi siamo autonomi indipendenti e scegliamo di stare insieme per piacere per crescita per autonutrimento quando invece uno dei due sta insieme per interesse e l'altro ok ti tengo perché mi servi allora lì c'è la strumentalizzazione c'è sempre uno nella coppia per lavoro nella vita il Dio che sta su di me mi decide io sono una merda che devo sperare che mi aiuti è brutto vivere e vivere grazie a qualcuno e questo bisogna essere indipendente forte e non amarsi credere in sé e non accettare il desequilibrio è una delle grosse base armonia armonia ma tu Barbara Maia ma te che fai fotografa dipingi che è la tua arte ricordaci qual è la tua arte te fai un po' di tutto come me dipingi foto che fai come tendenza è che mi piace sperimentare un po' tutto quindi io ho iniziato da piccola col disegno e la pittura la mia fissa da piccola mi vedevo come pittrice in qualche modo e poi ho provato a far creta mi sono sempre interessata anche un po' di danza ho creato anche in realtà ho seguito un po' l'istinto ho scritto poesie ho scritto racconti ho anche dipinto olio e acquarello tutte le tecniche la fotografia insomma non so per me è una curiosità fatto teatro sono tutte esperienze poi alla fine la la diversificazione ti fa un po' capire la base della creazione poi può prendere vari vari cioè il percorso dipende dalla necessità del momento perché se io devo esprimere quella tal cosa penso che la cosa migliore è la fotografia devo portare un messaggio devo far fare un cambiamento insomma non c'è un metodo è che c'è ci sono tanti strumenti a seconda della necessità o cosa si vuole fare o sperimentare si usa quello più adatto io la vedo hai fatto molta pratica in vari campi così a seconda della situazione tu comunque puoi dire la tua perché c'è l'esperienza diretta eh sì ma capita per esempio adesso che ho aggiunto ma perché ci sono capitata perché io sono stata sempre lontana dalla terapia e dal da questo mondo il più possibile però in qualche modo qualcosa mi butta sempre lì quindi alla fine da qualche anno ho detto vabbè dai apriamo la finestra possiamo anche usare un po' la parola guarigione terapia e così ma non io ho sempre voluto restare esperienza arte espressione sono parole alla fine sono solo parole ma hai fatto quel momento arriva il momento adesso ah sì adesso volevo dire che essendo che si è si è giunta la parola coaching no per dare una struttura che in questo momento è quella che viene ricercata vuol dire niente hai trovare il tuo obiettivo e raggiungerlo se vogliamo tra virgolette ho trovato che a seconda del momento sono utili dei piccoli suggerimenti cioè qualcuno a un certo punto ha bisogno di disegnare qualcosa perché perché magari in quel momento è meglio usare un foglio piatto bidimensionale un colore o dei colori una volta invece magari la cosa migliore è prendere della creta per altri può essere ascoltare una meditazione guidata che magari la faccio io perché il bisogno è quello di rilassarsi completamente altrimenti non scatta quel qualcosa quindi una volta ieri mi trovavo in questo luogo in cui avevo uno strumento che poi manco esiste un strumento agglomerato il luogo è la piramide dell'amore è la piramide dell'amore ma è uno strumento a corde e sentivo proprio la necessità di emanare questo suono anche vocalizzare un po' in quel momento quello era quello che creava il campo giusto per l'armonizzazione quindi è un po' difficile parlare di metodi poi si può sempre inventare infatti mi è stato chiesto un corso l'ho inventato cioè qualcosa si può schematizzare però è un po' sempre nel momento ci vuole la comunicazione il flusso il momento giusto la gente giusta però ho visto delle immagini dei video dove tu armeggiavi con dei nunciaku dei bastoni di recente anche quella è un'arte anche quella è un'arte anche quella è un'arte male anche tu mi sembra che hai fatto un video su la respirazione no cos'è tai chi e chi gong è un mix tra i due perché il chi gong è molto più spirituale il tai chi è molto più fisico come atletismo e io ho fatto la mia versione anche perché anche io di queste cose appunto ho praticato tanto e poi ho fatto i miei mix a seconda dei posti dei tempi dei luoghi dei soggetti e va bene è un movimento importante a volte viene un po' dimenticato però noi non muoviamo solo il corpo muoviamo anche delle energie quando ci muoviamo quindi tra la danza le arti marziali eccetera secondo me sono degli strumenti anche importanti per mettere in moto dopo ci sono anche le cose statiche però dove puoi creare piuttosto una meditazione o altro però in effetti io spingo un po' per questa cosa del movimento perché lo yoga in una modalità un po' diversa ma l'arte marziale quando fa le figure quando fa le le varie modulazioni non è altro che un anche anche il tai chi e il ki gong non sono altro che un andare a muovere delle zone di corpo dove di solito si accumulano le energie perché noi siamo pieni di chakra abbiamo i sette principali nessuno si caga quei due che stanno nei palmi delle mani insomma ne abbiamo tanti e se noi più siamo vivi più produciamo energia e va scaricata più siamo lenti atrofizzati più comunque da qualche parte ci intasiamo e allora la casa l'india di Novara che fa il tai chi si sente meglio sicuramente ma non è solo lo stretching fisico che comunque anche quello fa giunture muscoli ma è proprio un andare a cioè è come se si creassero delle sacche d'aria nel nostro corpo e noi rompendole torniamo a fluire più leggeri e ovviamente più fai queste cose più arrivi a farle prima fai lo yoga poi fai il tai chi poi fai arti marziali e poi stai bene stai molto bene non è solo spirito e che tutto nasce dallo spirito ma poi arriva anche il corpo se fai solo corpo vai in palestro tutto lì non c'è niente lì non c'è niente c'è solo un danno alla struttura fisica perché infatti necessitano tantissimo combustibile mangiano tanto bevono tanto si ammazzano di musica idiota per essere e perché hanno bisogno di tutto quel combustibile perché non arriva dallo spirito allora deve essere tutto artificioso e i risultati poi si vedono perché uno che fa una vita spirituale che diventa un marzialista e c'è chi invece diventa mister muscolo poi gli viene il cancro a 40 anni va bene prima dell'ultima tranche dove poi parlo del mio progetto del prossima stagione dove comunque l'arte di Amaia e di Luca e di tutti quelli che mi conoscono sarà molto ben accetta ci sono domande dalle tre misere figure che ci fanno da pubblico oggi che anche oggi erano in 7 8 vengo stasera appena arrivo poi vengo ma io lo dico perché poi me lo dico hai parlato di me quando hai detto che la gente fa i video se mi interessa e poi non vengono in diretta poi però me la menano mandamelo mandamelo quella l'altra volta che ho dovuto editarlo e quindi è passato del tempo tutti agitati che lo volevano perché non venite in diretta c'è un tot di meglio da fare ma comunque dai domande se ce n'è io avrei una puntualizzazione perché ha altro da fare sul questo sì no cioè sul discorso del movimento è un po' vabbè è l'unica cosa su cui mi posso esprimere e che attraverso il movimento c'è il fatto stesso che alcuni disturbi fisici tensioni muscolari piuttosto che altri disturbi più interni si dissolvano attraverso il movimento appunto come diceva Cristiano non è solo il movimento in sé è che cioè il corpo è la timora dello spirito e quindi quelle come lo spirito agisce sul corpo e se lo spirito è in tensione è incazzato porta l'incazzatura nella mente poi nel corpo e allo stesso modo cioè noi possiamo agire al contrario e andando a sciogliere il corpo sciogliamo la mente che toglie l'allarme allo spirito cioè un'azione bionivoca è un uno anzi circolare spiraliforme direi più che di univoca semplicemente perché non è lineare e è bello sperimentarlo e anche la connessione con le arti figurative piuttosto che con la musica cioè è questa armonia che si può esprimere su diversi con diversi mezzi e infatti quando io noto che quando sono più e è il mio per come per quello che conosco e cioè per quello che ho potuto sperimentare e per cui per quello di cui ho preso dimestito la cosa più facile per me è liberarmi attraverso il movimento però noto che dopo che mi sono liberata attraverso il movimento anche le altre arti riesco ad esprimerle meglio mi viene più più spontaneo percepire le vibrazioni di una campana tibetana e diventa anche molta più fluida la mia mano se mi metto a a disegnare piuttosto che a dipingere piuttosto che a modellare qualcosa e cose che delle arti figurative io ho sperimentato poco però ogni tanto mi piace lasciarmi andare e provare sperimentare la materia e così come sperimenti la materia attraverso il materiale che ti trovi a maneggiare e sperimenti la materia attraverso il materiale corpo che ti trovi a gestire e questo sperimentare la materia cioè noi siamo qua per giocare con la materia anche se magari in alcuni momenti abbiamo la propensione a buttarci più verso lo spirituale comunque è un spirituale che sta giocando qua e che pertanto non può essere distaccato non può andare per conto subpo non può essere scisto non può prescindere ecco dal dal rapporto con la concretezza con la terra o questo che sento e beh certo poi tu pratichi con la gente la fai muovere ti accorgi proprio che prima sono legnosi poi diventano un po' più fluidi e poi casualmente gli vanno via anche dei malanni che ma al di là di questo io vedo il sorriso alla fine io vedo la respirazione come è cambiata e non solo perché gli ho detto inspira fai questo espira fai quello è cambiato proprio lo stato di di allerta del corpo che prima c'era corpo e dell'animo stesso che prima c'era e poi è volato via si è è iniziato a fluire è iniziato a fluire lungo quei meridiani che abbiamo che possono essere poi vederli come i meridiani energetici puoi vederli come le nadi puoi chiamarli come catene miofasciali però alla fine quello sono molto bene dimostrazioni dalla vita pratica altri interventi se ce ne è mettete la mano che vi facciamo parlare niente a sto punto io voglio chiudere con quello che invece io propongo perché da settembre inizia appunto la nuova stagione che va avanti dopo aver fatto il territorio l'ambiente averlo preparato due anni fa quindi avendo fatto la prima sessione dove si è parlato tanto di tutto in maniera anche pesante sono state tante ore e con me a parlare di sincretismo di principi e Barbara c'era quella che se lo ricorda e poi niente adesso partiamo con questa stagione che da settembre ci sarà e l'abbiamo chiamato Ateneo Mundorum che vuol dire Ateneo Mundorum dei mondi Ateneo Sincretico dei mondi te ne vai o no? e l'Ateneo Sincretico dei mondi è così fatto che se si leva a sto fare sarà altri tredici mesi quindi una stagionalità naturale dove andiamo avanti con quello che in fase teorica è stato fatto negli anni due anni scorsi con la fine di questo preambolo si può iniziare praticamente a fare azioni in tutte le direzioni le materie rimangono sempre le nove nove non a caso nove il numero dell'evoluzione perché ogni nove passaggi vai avanti di un ciclo nove materie che sono le basi per cui con le combinazioni si crea tutto quello che ti serve per difenderti o aprire porte ti costruisci la chiave andare avanti creare le tue cose nella vita non a caso anche qua si parla di un'immagine che è stata presa dalla scuola di Pitagora Pitagora Pito Pitone insomma anche Pitagora poteva essere riferito a una specie serpentiforme ma il serpente che porta l'informazione l'insegnamento che porta la conoscenza originaria a partire dall'albero della genesi di Adamo e Deva che insomma ce n'è da tutte le parti di sti serpenti che portano le informazioni e Pitagora dicono che era un grande a modo suo e con la sua scuola facesse tanto del bene però era anche un tipo particolare Pitagora comunque un ciclo noetico serale per spiriti attivi dai 7 ai 70 anni di simposi settimanali la noetica potremmo dirle che è il sincretismo è quella forma di comparazione multidisciplinare ecco per farla facile per spiriti attivi perché e gli metto persone per soggetti per umani per ragazzi per spiriti qua la gente non va valutata per il ruolo per l'estetica ma io la valuto la peso per quello che è dentro ho l'occhio clinico e quindi gli spiriti attivi dai 7 ai 70 anni simposi settimanali parlo in italiano e inglese 5 ore alla settimana 13 mesi un bel po' di ore si inizierà il 17 settembre a cavallo con l'equinozio l'autunno che sarà in quel periodo e come si può leggere l'epistemologia che in pratica è la filosofia che scientificamente diventa tangibile come strumento perché fare filosofia è un conto la scienza è uno strumento facciamo che la filosofia utilizza la scienza per dare vita tramite lo strumento a quello che sono le varie necessità dell'individuo del terzo millennio e allora visto che io vedo malissimo questa posizione allora epistemologia applicata verrà fatto sugli argomenti che anche essi sono nove di prestanza autonomia e sport abitabilità sociale e territoriale erotismo e nutrimento ricordiamoci che l'erotismo non è altro che una danza di energie con qualcosa che ci dà a sua volta ancora più energie che sia autoerotismo che sia erotismo con qualcun altro è un metodo di linguaggio ed è un nutrimento perché l'individuo si autonutre dando e di solito si riceve più di quanto si dà da questo tipo di pratica però bisogna saperla fare perché se no cadiamo nelle depravazioni distorte viaggi fuori dal corpo barra 3D e relativa mappatura dei mondi liminali cosa vuol dire da anni facciamo sessioni condivise di navigazioni guidate suoni lucidi visioni chi fa meditazioni tracentali noi di noi di nostro facciamo a cavallo di tutti i sabb quindi otto volte all'anno io le faccio appunto e c'è un seguito appunto anche con gente che è qua stasera dove facciamo degli sguardi oltre il nostro mondo e vediamo posti riconosciamo suoni nomi individui creature luoghi che ci possono dire tanto perché li abbiamo già visti altrove o altri ne hanno visto e se nessuno ne parla non si sa che quel posto per esempio io in una dimensione parallela alla nostra la città di Milano si chiama Orsoti cioè ho proprio visto il cartello bianco stradale Orsoti e quando poi è capitato di parlarne con gente con cui si può parlare di queste cose dico ma io parlando ero a Milano ho detto devo proprio andare a Milano ah sì dove c'è il Duomo sì devo andare a Orsoti andiamo a Orsoti Orsoti e quello mi ha detto ma sai che Orsoti l'ho già sentito anch'io ho fatto un sogno dove c'era mia fidanzata era di Orsoti cazzo allora mettiamolo dove eri scritto perché bisogna farlo sapere a tanti che qua in questo piano dimensionale Milano si chiama Milano e quell'altro si chiama Orsoti e magari là ci abita Maurizia che in sta vita si chiama Franca e non lo sappiamo mentre se mettiamo insieme queste informazioni magari quella lì dice ma come ma io ma davvero in questo posto in un mondo parallelo c'è una che si chiama però è diversa da me ma alla fine sono io magari eh sì quindi mappare i mondi fuori dal nostro porta un ampliamento della mappa del territorio ed è importante perché sennò la gente continuerà a credere di vivere solo nel qui e basta e non basta mai stare solo qui e basta in più circondati da ste macchine impazzite che sono la gente che non può neanche volendo andare fuori dalla 3D perché gli manca l'antenna come diceva sempre Condorink quindi noi dobbiamo funzionare come meccanismo e soprattutto dobbiamo sapere di sapere poi costellazioni individuanti che sono quei sociodrammi familiari svelati che è la mia modalità anche qua ho fatto la mia versione perché le le cosiddette costellazioni familiari sono cose bellissime utilissime bisogna saperle fare perché sennò crei dei gran egregori quindi crei dei tulpa ma se le sai fare dicono delle cose risolvono dei casini generazionali karmici e quindi anche qui come per tutti gli atenei che sono nove veramente penso che troverò nove o quasi nove direttori direttori di scena perché devo avere dei direttori di scena che assieme a me attivamente producano sia l'appuntamento settimanale con me o che fanno loro e io sto solo lì a guardare se non ci sono li aiuto li sostituisco ma localmente tutti potranno creare il proprio circolo sotto casa dove territorialmente si fa la serata di quello di quell'altro di yoga di aggiustamento osseo come può fare Francesca possiamo fare la costellazione individuante possiamo fare quello che vogliamo e la finestra sul mondo l'organizzazione sarà comunque quest'ateneo nostro dove noi convogliamo lì tutte le nostre energie le nostre pratiche le nostre sapienze anche le nostre infrastrutture perché per esempio Kondorinka c'è il suo canaletto youtube che ha appena aperto io un po' lo promuovo ha messo dei video sono cose belle stimolanti in italiano inglese francese scutaci sopra appena nato in tre lingue vuol dire che a nessuno interessa se lo sapesse il mondo che lui fa quelle cose qualcuno si interesserà e quindi veicoliamo quelle cose veicoliamo quello che lui crede che pensa che pratica che sa e noi con lui lui con noi tutti attraverso noi che siamo queste cose portiamo a quel nostro mulino del sincretismo perché stiamo parlando tutti delle stesse cose e allora costellazioni individuanti sovranità individuale che voglio dire sputaci sopra certo è una conseguenza di avere una vita retta non si può avere il documento e la conoscenza e la praticità di quelle cose senza avere un ambiente che può spontaneamente generare a quel tipo di potenza tu puoi fare il sovrano anzi lo sei già senza saperlo se tu hai tutto e poi ti manca solo il documento ma sei solo il documento e ti manca l'ambiente tu puoi avere il documento più grosso che è che esci di casa e i carabinieri ti fanno il TSO quindi anche lì prima di arrivarci ce ne vuole comunità locali ed ecovillaggi vediamo di cominciare a fare un ecovillaggio lì e tanto se ne parte da uno autonomia antisistemica autonomi bisogna sapersi fare il sapone sapersi fare le conserve sapersi fare il gelato sapersi fare gli unguenti non possiamo più andare in farmacia nel supermercato lo facciamo per comodità ma quando saremo nel nostro mondo futuro dove magari l'ecovillaggio se non è in a visocco sarà che ve lo create fuori città dove siete voi fate quello che volete ma fate qualcosa e non vivete di quello che è stato fatto dagli altri perché vedete la fine che fanno quelli che vivono le creazioni degli altri soprattutto quando gli altri sono quella robaccia lì che vediamo nei libri di storia ricordatevi che i libri di storia dicono ogni volta quello che nessun umano ha mai imparato dalla storia quindi se non volete finire anche voi nel prossimo libro di storia perché quelli come noi nei libri di storia non sono nominati e non ce n'è nei libri di storia argomenti che parlano di quelli che non mangiano cadaveri di quelli che non fanno parte degli imperi che non fanno parte dei dualismi chiamati guerre non ci sono tu vedi il libro di storia solo gente che si ammazza qualcuno che vince qualcuno che implode ma non c'era nessun altro cioè non c'è alternativa a far parte o della guerra o di quello che è morto per causa della guerra o di quello che è nato dopo che la guerra era già stata vinta dai suoi no si è sempre solo lì e cavolo è ovvio che tu mi fai vedere solo quei tre canali sul televisore io crederò da grande crescendo in quel mondo che esiste solo quello che viene dato da quei tre canali cioè è limitante quindi autonomia antisistemica anche pensare proprio il modo di pensare smettiamo di pensare sistemico ossia duale materialista maschilista e relativista linguaggio archetipico attraverso le rune ora io ci sono molti metodi c'è la divinazione con le carte con i fondi di tè con l'astrologia l'astrono sì l'astrologia piuttosto che i cing tutto quello che volete io faccio le rune mi occupo di quelle tutto il resto è ben accetto non sono specializzato in quelle ho fatto gli ossicini di pollo in Africa ho imparato altre versioni ma io mi trovo bene in quello e è già stato trattato sul canale l'anno scorso durante il corso dei due anni scorsi le rune usiamole a quanto pare sono il più il più antico il primo proprio il primo io allora vado più alla fonte possibile quindi utilizzo il sistema più più vecchio di di lettura della realtà e niente collabora con e attraverso noi io otterrò appunto così le redini di questa cosa perché perché la mettono in piazza ma questo sarà appunto quello che si svilupperà da da settembre da metà settembre e voglio beh voglio no ma penso veramente che tanti validi artisti pratici di queste materie ognuno con la magari sua specializzazione poi se qualcuno è così forte da potersene prendere due o tre di materie potrà fare più cose aiutarmi a dispondere il verbo della sapienza del leggere da dentro di noi dell'autonutrimento e del comunicare con gli altri perché quando rinchi non lo conoscevo lo conoscivo attraverso maia e ora noi stiamo facendo stiamo facendo e poi e poi facciamo vogliamo fare una comunità lì in visocco e poi vogliamo fare del bene e vogliamo fare la danza e vogliamo fare il mangiare vogliamo fare il silenzio vogliamo comunicare con le creature sottili qualcuno lo fa già a modo nostro sicuramente lo facciamo tutti un po' io lo faccio poi non è che metto i manifesti perché ce n'è tanti che dicono di parlare attraverso non so chi per avere le informazioni dai mondi sottili e fanno i channeling i contattisti noi potremmo creare un ambaradan dove magari a visocco qualcuno di molto sensitivo per esempio a Maya che è molto sensitiva abbiamo visto negli anni quando ha fatto le navigazioni di bibliote è molto molto ricettiva è talmente potente che a volte va troppo avanti nel tempo o va un po' proprio localmente troppo distante ma è stata veramente ha fatto delle cose incredibili e con me è presente quindi dico se la mettessimo nell'ambiente giusto nella condizione giusta potrebbe essere un bel canale di comunicazione con creature giuste perché non è che prendiamo il primo che passa di lì e ci dice fidati di me cavolo noi diciamo che abbiamo un po' d'esperienza sicuramente io poi non so anche altri ma sicuramente io ho le mie esperienze pratiche di dieci anni di ipnosi e cose varie dove ho incontrato la qualunque cosa e la cosa inquietante è che loro conoscevano più me che io loro però vabbè e quindi potremmo far diventare una sibilla barbara potremmo creare un egoillaggio a bisoguo potremmo migliorarci la vita con delle imbeccate perché quando ci arrivano le informazioni giuste noi altro che motori energia pulita o autosostenibilità o diventare che viviamo di prana queste cose si fanno e che quelli che le fanno non finiscono né al telegiornale né su youtube e quindi giustamente diventiamo parte di quelli che non esistono ma che sono io nel mio piccolo già un pochino lo faccio voglio avere poca gente perché io non voglio avere sbocco sui social non voglio che il popolo mi arrivi direttamente sulla pelle perché mi viene orticaria ma proprio per un lavoro di delicatezza devo preservare il mio equilibrio senza avere aspettative attacchi ansia amore spassionato che già mi arriva quasi qualcosa di sta roba volando basso come volo però devo fare questo questo tipo di opera nella mia vita perché è la mia la mia vocazione la faccio faccio stare bene delle cose chiamate miracoli qualcuno ogni tanto lo grida in realtà io creo le condizioni poi l'individuo con la sua energia produce quella cosa e la gente ha la guarigione le cose brutte esistono i parassitaggi le infestazioni esistono sono cose che vanno conosciute perché se le conosci le eviti se non le conosci ti rovinano sta vita e le altre e poi te le porti dietro generazionalmente allora visto che oramai dopo due anni mi sono creato un circondario di gente valida i più tanti non sono presenti stasera ma almeno tre qui sì e quindi dico dal prossimo anno potremmo fare del bene fare noi stessi perché sta roba ce l'abbiamo dentro volenti o nolenti ce l'abbiamo dentro almeno strutturiamoci in un'organizzazione dove si parla la stessa lingua dove comunque chi ci mette la faccia sono io e di certo di me si può dire qualunque cosa tranne che io sia un despota uno che gestisce uno che impone o che mette le regole ma facciamo fluire sinergia facciamo del bene facciamo del denaro perché ognuno localmente può farsi pagare in offerte per i servizi che farà perché se ha se una costellazione individuante la fa Aura Fra nella sua zona lì in Veneto e viene la gente noi in diretta partecipiamo e lì fisicamente la fanno e noi guardiamo e lei si fa pagare per quelli che sono lì bene la visione poi messa magari su YouTube per esempio su un canale non lo so di qualcun altro se non di Condorinca diranno ma guarda un po' questi qua che fanno queste cose ma è diverso e non ci sono madonna e angeli non c'è da dare la delega a qualcuno e non c'è il mero denaro e non c'è scritto iscriviti al canale metti like e non ce ne frega niente a noi della quantità noi puntiamo sulla qualità perché con la qualità io ho fatto dieci anni dove vivo d'arte e porca zozza i risultati si vedono la qualità della gente che circonda la mia vita non è paragonabile a quella che avevo quando avevo i soldi ero nella vecchia vita ed ero circondato di idioti e a trent'anni non avevo più obiettivi nella vita quindi ben felice di essere nel mondo degli pensatori alternativi dei multidimensionali e di e di quelli che non dicono io speriamo che ce la faccio ma dicono io agisco io sono anzi io sono è brutto noi siamo perché noi anche come individuo unico siamo tante cose quindi noi Cristiano Rose e company con tutti gli appellativi che ho perché Cristiano Andrew Rose c'è anche altre continuerebbe c'è anche altre continuazioni non è solo Cristiano Rose ma qualcuno l'ha anche già detto però sono già passati anni sarà che poi perché più uno fa evoluzioni più il suo il suo suono si allunga lo sapete il maestro nelle arti marziali o nella spiritualità quando uno fa un'evoluzione poi il maestro in certi posti il maestro ti dà un nome nuovo in altri posti tu te lo autoassegni ovviamente io non faccio autoassegnare io non ho mai detto niente ma quando qualcuno mi ha detto dammi un suono nuovo e allora io ovviamente un'idea ce l'avevo l'ho dato e quello lì magari ah che bello mi ricordo aver dato ne ho dati e questa gente poi sì sì mi risuona mi piace è mio e volevo proprio vedere se non lo confermavi e io ovviamente non sapevo di sapere però essendo che mi sono connesso alla cascia quindi la vita è bella dobbiamo usarla giocare perché finché siamo qui è imperativo divertirci e quindi divertiamoci ora guardo che è arrivata una chat qualcuno ha scritto qualcosa magari non lo sono volato ragazzi devo salutare Abibi devo andare ah ok va bene niente buona serata sì sì ma tanto siamo in chiusura perché abbiamo fatto un'ora e mezza però se avete altro da dire siamo qui e altrimenti andremo avanti ci sarà un ennesimo aggiornamento più avanti però noi tre ci siamo poi Fiamma Aura Fra siamo già il trio di nostro ora ci sono io vado coi tre vado coi tre sono sempre nel tre e pochi ma buoni tre è il numero perfetto quando invece ci sono quelle con Greg ah siamo in 15 facciamo andiamo che bello quanto durate in 15 tempo litigano amici figli e figliastri non ho poche cose ma buone e chiare altre cose da dire voi due col buio che è diventato buio lì dietro prima c'era il sole anche qua è venuto buio no no grazie per questa serata abbiamo discusso bene a flù stesso si dice a flù tendu perché io parlo frantè così si è è stato buio lusso steso esteso esteso e dunque ho passato un bel momento anch'io è sempre bello poter portare sì anche questa questa nostra realtà come appena detto su questo piano concreto continuiamo andare a pescare e creare è bello perché ognuno ha la sua veramente questa le unicità quando ognuno prende proprio la propria centratura la propria connessione diventano delle bellissime relazioni dei bei rapporti perché alla fine c'è come dicevamo equilibrio il valore siamo noi tu hai un potenziale lui hai un potenziale tu ti porti dietro oggetti esperienze relazioni puoi mettere a disposizione io pure se venite qua vi ospito se andiamo da te in Svizzera c'è ospito se noi andiamo in Francia questo siamo noi finché siamo noi da soli qui nessuno lo sa io sono qui posso essere bravo e buono non serve a niente mettiamoci a disposizione non ti dico di tutti ma tra di noi ripeto è imperativo farlo perché solo così possiamo crescere perché avere un giocattolo e non usarlo che divertimento c'è noi abbiamo tutte queste peculiarità io le ho sequenziate le faccio come professione da dieci anni e tu Barbara lo stesso Aurafra a modo suo pure Fiamma a modo suo pure da soli circondati da macchine impazzite cosa serviamo? stiamo tra di noi cocriiamo e magari un dopodomani ci ritroviamo a vivere fisicamente insieme e lì le cose cambiano quando fisicamente si sta vicini perché ora siamo tutti Fiamma in Olanda tu sei in Bosnia io sono in Gran Bretagna Aurafra in Veneto e l'altra era Roma a Bibi ma quando siamo tutti è lì il nostro mondo e poi con le piramidi con quell'energia con quel posto con quel buio silenzio di campagna che avrete lì avrete i grilli mi sembra di sentire l'odore di quello che siete dove siete voi dai perché? perché sono connesso quindi mi sembra di essere lì anzi fa film freschetto no va bene ma tu fai l'uomo vivile ma tu sei drago sei drago dentro c'è il fuoco anche te eh sì eh sì sì ma buono allora domanda domanda velocissima che mi è lasciata lì lì a Visoco ci sono le lucciole e ci sono quei quei bruchetti che sono fosforescenti di notte lì non le conosco ma le lucciole le abbiamo viste sì 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 ce n'è tante ieri sera ce n'erano tante sulla piramide dell'amore quando si dà dove siamo ce n'è tanti e vanno velocissimo sono belle eh sì ma quell'altro non lo so ma quegli altri io li ho visti solo nel sud della Francia prima non li conoscevo sono piccoli lombrichi ma saranno lunghi due centimetri però però sono fosforescenti al buio li vedi sono il frutto dei infiuti radioattivi ma non credo non credo proprio no no sono bellini chiediamo a chi perché abbiamo beh c'è Mus per esempio altre persone che conosciamo che vanno piuttosto in tenda magari più facile che questi li vedi sugli alberi praticamente ah sugli alberi ah ok sul tronco dell'albero oppure se c'è un muro qualche cosa di verticale e ci sono non ne ho visti tanti in un colpo solo ne avrò visto uno o due massimo ma le lucce le scenettate sì bello 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 le tante diandaie poi ci sono anche queste specie di di uccelli particolari che non ho ancora capito come si chiamano che vediamo solo lì vicino al tumus che sono colorati molto colorati ah gli animali sì abbiamo visto tante volte l'acqua ormai sa che l'abbiamo salutata almeno io la saluto sempre le lepre è passata qui sopra un paio di volte sì ho visto anche un bambi non lo so come si dice in italiano ma l'acqua un cerbiatto l'acqua un riccio l'altro giorno proprio lì in mezzo è passato un riccio un riccio sta bazzicando il nostro giardino adesso quindi no però io per esempio adesso in Svizzera avevo meno incontri con gli animali nonostante ci sia molto verde mentre qua sembrano gironzolare tranquillamente e dunque te Fiamma sei in Olanda sì sei lontano di Friesland abbastanza praticamente sono alla periferia sud ovest di Amsterdam quindi per quello cioè attraverso la strada e c'è un parco ci sono le mucche al pascolo e tutti che portano a spasso i cani ci sono uccelli di tutti i tipi e appunto adesso che è stagione alla notte è capace che passa a ricetto che sta cercando mangiare o compagnia ok Friesland abbiamo avuto abbiamo conosciuto una persona da lì è stato interessante la zona di Friesland ma ne parleremo in un'altra puntata sì va bene allora dai per stasera chiudiamola perché siamo quasi alle tre ore e niente ci aggiorniamo e rimaniamo in contatto nel mentre e godetevi l'estate l'aquila ha un altro bel segno e quando si vede l'aquila vuol dire che è un buon posto sì sì io non ho il memoria di aver visto questi lombrichi questi questi bruchi fosforescenti ne ho visti di piccolissimi che si calano dagli alberi ma non li ho visti fosforescenti però se ce l'hanno in Francia no quelli che si calano dagli alberi sono più piccolini nel senso più magrolini questi fosforescenti sono quasi due millimetri ma due millimetri e qualcosina di larghezza magari tu con la tua vista migliore della media hai visto creature che non sono del mondo 3D e basta magari le hai viste solo tu nel senso che ci sono ma perché no 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 questi qui con quello con cui ero perché io non li conoscevo ha detto ah sì sì perché ci sono quelli fosforescenti dove 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 e si è messo a cercare e l'ha trovato lui ma pensa a te non lo sapevo ma infatti non neanche mai visti direi neanche loro da come un risposto mai mai comunque dai vedi che siamo circondati da creature che ignoriamo ma loro ci guardano come adesso voi siete attenzionati per me sono sono fluorati no poveri creature dai sono belli arzilli ciao bel sogno a tutti sì altrettanto grazie grazie ci vediamo grazie grazie buona grazie ciao ciao vediamo dove ci porta grazie a tutti